Ma quanti quanti cittadini al di sopra di ogni sospetto hanno rapporti con la mafia in Italia? Chissà. La differenza tra me e Giuliano Ferrara è sostanzialmente questa. Io cerco di capire quello che è successo e cerco di capire anche quello che dice Giuliano Ferrara. Invece lui di quello che è successo e di quello che dico io non se ne frega assolutamente niente. Io ho sempre sostenuto che quando si tratta di condannare qualcuno dobbiamo sapere con precisione cosa ha fatto, dove l'ha fatto e come l'ha fatto. Ma nello stesso tempo ho sempre detto che quando giudichiamo Totò Riina o Marcello Dell'Utri li dobbiamo considerare con le stesse leggi dello Stato di diritto. Perché sarebbe molto grave se noi trattassimo i boss in un modo e i politici in un altro modo. Perché dovremmo essere tutti uguali di fronte alla legge. Libero Grassi che ogni tanto mi piace ricordare non è stato ucciso soltanto perché si batteva contro il pizzo. Libero Grassi è stato ucciso proprio per la denuncia solitaria che lui pronunciò contro le complicità che ci sono tra i colletti bianchi e la mafia. In particolare diceva Libero Grassi i buoni politici fanno buone leggi i cattivi politici fanno cattive leggi ma come si fa a riconoscere un buon politico e lui sosteneva che per riconoscere un buon politico bisognava vedere come aveva raccolto i voti in che modo aveva realizzato il suo consenso. Per cui sono sicuro che Libero avrebbe voluto due cose. La prima è che ci fosse una legge che punisse con chiarezza le frequentazioni sistematiche con i mafiosi e anche la richiesta dei voti che si rivolge a un mafioso sapendo che si tratta di un mafioso. E nello stesso tempo sono anche sicuro del fatto che Libero Grassi avrebbe voluto una politica che si sapesse dare da sola delle regole per espellere dal suo seno quelli che i rapporti con i mafiosi ce li hanno. Allora tanti anni fa dovete sapere che a un certo punto Marcello Dell'Utri litigò con Berlusconi e andò a lavorare con un finanziere che si chiamava perché adesso è morto Rapisarda in un bellissimo e grande palazzo a Via Festa del Perdono a Milano. Bene questo finanziere Rapisarda affidò a Marcello Dell'Utri e anche a suo fratello il suo fratello gemello la gestione di due società che fecero bancarotta per cui insomma i due fratelli Dell'Utri passarono un sacco di guai il fratello Alberto fu anche arrestato e Rapisarda scappò e andò all'estero in Venezuela inseguito da un mandato di cattura a trovare rifugio presso una famiglia che si chiama Contrera Caruana sono forse i più grandi trafficanti di stupefacenti del mondo non so se sapete come si faceva di amare allora Marcello Rapisarda quando era in latitanza si faceva di amare Marcello Dell'Utri allora accade che proprio Rapisarda qualche anno dopo andasse a Palermo a testimoniale nei processi che hanno visto coinvolto Berlusconi e Dell'Utri e cosa disse Rapisarda disse che Dell'Utri quando lavorava con lui veniva frequentemente tra virgolette visitato da bontate e che una volta addirittura diciamo raccontava noi giornalisti era entrato in una stanza aveva trovato Dell'Utri con delle valigie piene di soldi e bontate che stavano lì insomma che contavano questi soldi che sarebbero poi finiti alle televisioni di Berlusconi naturalmente diciamo Dell'Utri ha sempre negato tutto questo non solo l'ha negato e poi tutto sommato non ci sono state conferme giudiziarie diciamo di queste vicende ma nel negarlo ha detto qualcosa di ancora più grave ha detto Rapisarda ma state scherzando ma voi credete a quel delinquente lì voi credete era lui che aveva i rapporti con i mafiosi certo che i mafiosi venivano lì in via festa del perdono ma non venivano certamente a trovare me venivano a trovare Rapisarda io li ho visti quando venivano lì allora a questo punto noi abbiamo raggiunto la ragionevole certezza che in questo bel palazzo di via festa del perdono i mafiosi andavano perché lo dice Rapisarda lo dice Dell'Utri adesso voi sapete in quale palazzo è stato costruito il primo club di forza Italia in Italia a via festa del perdono cioè praticamente Marcello Dell'Utri ha voluto creare lì la prima sede ufficiale di forza Italia allora in un altro paese quando fossero venute alla luce cose come queste cosa sarebbe successo? La stampa si sarebbe indignata immaginate negli Stati Uniti un putiferio invece in Italia non solo il putiferio non c'è stato a parte qualche solida trasmissione criminale insomma e cose di questo tipo ma addirittura la classe dirigente milanese è andata a scegliere Marcello Dell'Utri come senatore della Repubblica Italiana quando queste cose erano già note badate bene allora ha ragione Moretti quando dice che l'opinione pubblica non esiste in Italia che se esistesse queste cose non potrebbero accadere ma non esiste perché non esiste una stampa non esistono telegiornali pienamente indipendenti dalla politica altrimenti lo scandalo scoppierebbe e l'opinione pubblica esisterebbe e soprattutto esiste il fatto che noi tutti deleghiamo soltanto alla magistratura delle scelte che invece dovremmo saper fare noi cittadini ecco diciamo così che la conclusione della storia è che appunto la storia sono sempre loro cioè Ferrara diciamo quelli che insomma con i loro compagni oppure con i loro camerati e servizio pubblico siamo sempre noi poveretti insomma un po' sfigati a tra poco grazie a tutti spesso e alle stesse ore usciva da solo per comprare il giornale le sigarette quasi a mandare un messaggio a mandare un messaggio ai suoi carnefici perché lo uccidessero quando lui era solo e non quando si trovava con i suoi angeli custodi mi diceva Sira quando ci sarà Giovanni vivo per me sarà uno scudo quando morirà lui io non avrò più questo scudo e verrà la mia fine ritengo che mio marito è stato abbandonato al suo destino di morte lui ha fatto la solita passeggiata a mare con la sua barchetta e questa volta i suoi uomini hanno voluto accompagnarlo e cosa che non era mai accaduta e abbiamo pranzato e alle quattro e mezza quando sono venuti gli altri sei uomini della scorta è andato dalla sua mamma perché doveva accompagnarla dal medico ha baciato a tutti ha salutato tutti e come se stesse partendo io ho detto vengo con te non ho io fretta e lui continuava a darmi le spalle a camminare verso l'uscita del viale e allora ho detto guarda con questa borsa che porti sempre con te sembri Giovanni Falcone non so se mi ha sentito non era un grande giurista però eticamente era un uomo giusto due giorni prima che lui morisse mi ha detto io non vedrò i risultati del mio lavoro li vedrete voi dopo la mia morte e perché perché la gente si ribellerà si ribelleranno le coscienze qualora si presentasse qualcuno a chiedere perdono lei come reagirebbe? ma chi? in astratto le persone che non hanno un volto che non hanno un nome non mi costerebbe niente la buona cristiana dire perdono ma chi? io perdono a coloro che mi dicono la verità devono avere il coraggio di dire perché l'hanno fatto quello che sanno con lo stesso coraggio con cui mio marito è andato a morire di fronte al coraggio io mi inchino anche degli assassini sì io non voglio vendetta io voglio sapere la verità e non voglio nient'altro perché eliminarlo? chi ve l'ha fatto fare? e avranno il massimo rispetto da parte mia rispetto? per una persona che si redime sì ma devono dire la verità allora era naturalmente Agnese Borsellino che parlava e la sentiremo poi dopo diciamo parlare direttamente con i magistrati con un documento straordinario secondo il mio punto di vista dove si capisce tutta la fermezza di questa donna e anche diciamo la come dire la continuazione dello spirito di Borsellino Paolo diciamo in lei allora vi saluto tutti insomma la gente ha già visto che ci siete saluto Veltroni Martelli saluto la signora Grasso che è qui con noi voglio salutare anche Antonio Ingroia che è in collegamento con noi dagli Stati Uniti buonasera vediamo se c'è bene addirittura è lì pronto sì buonasera buonasera e vorrei però cominciare vorrei cominciare da da Salvatore Salvatore Borsellino no i giornali hanno parlato delle ultime notizie hanno parlato delle conclusioni provvisorie alle quali sono giunti i giudici di Caltanisetta i magistrati di Caltanisetta e volevo capire a che punto è la risposta alla domanda perché è stato ucciso Borsellino adesso io da anni da almeno cinque anni da quando dopo dieci lunghi anni di silenzio ho ricominciato a parlare anzi a urlare la mia voglia di verità che dico sostengo che mio fratello è stato ucciso perché si è messo di traverso rispetto ad una scellerata trattativa tra mafia e pezzi dello Stato è da anni che lo sostengo e per questo sono stato preso per pazzo sono stato preso per pazzo quando lo dicevo quando ero quasi solo io a dirlo adesso che in un mafioso come Spatuzza oggi collaboratore di giustizia il figlio di un mafioso Vito Ciancimino Massimo Ciancimino e il figlio di Vito Ciancimino hanno cominciato a parlarne improvvisamente si è rotta quella congiura del silenzio che è durata per vent'anni una congiura del silenzio in cui purtroppo sono complici tanti personaggi delle istituzioni che di questa trattativa sapevano che questa trattativa conoscevano e per vent'anni non hanno parlato la verità forse oggi più vicina perché io ritengo che questa sia la causa per cui è stato ucciso Paolo Borsellino però purtroppo quando ci si avvicina alla verità aumentano le resistenze gli ostacoli che vengono posti sulla via della verità è quello che dice Antonio Ingroia siamo nell'anticamera della verità stiamo dando uno sguardo dall'altro lato ma c'è il pericolo che questa porta venga richiusa e sentiamo sempre più forte la resistenza perché questa porta venga aperta quindi io credo che alla verità sicuramente siamo più vicini ma che per questo oggi siamo in un momento di estremo pericolo di estremo pericolo soprattutto per questi magistrati che oggi per la prima volta stanno cercando di togliere questo velo nero fatto di depistaggi fatto di di trame di ogni tipo che fino ad ora la verità hanno coperto come purtroppo è successo nel nostro paese per tutte le innumerevoli innumerevoli stragi di Stato che nel nostro paese si sono verificate per tutte queste stragi di Stato si è svolto sempre lo stesso meccanismo depistaggi verità nascosta verità allontanata e questo si ripete ancora una volta io ho paura anche per l'incolumità fisica di questi magistrati che oggi si occupano di queste indagini e che sono arrivati vicino alla verità sento un'area troppo simile a quella nel 92 quando successe quello che è successo nel nostro paese anche perché siamo in un momento in cui si sta passando da un equilibrio di potere a un altro e questi sono i momenti più pericolosi in Italia si fa più forte il pericolo di queste stragi sentiamo sentiremo adesso cosa dice Veltroni ma prima Walter Molino diciamo un poco ci porta dentro le conclusioni provvisorie di Caltanisetta vediamo come il 23 maggio 1992 500 kg di tritolo sventrano l'autostrada per Palermo nei pressi di Capaci pochi giorni dopo il capitano dei Ross Giuseppe De Don incontra Massimo Ciancimino figlio di Don Vito ex sindaco di Palermo legato alla mafia dei Corleonesi la strage di Capaci è una cosa da pazzi questa non è più mafia bisogna fermarli a tutti i costi tuo padre potrebbe darci una mano perché non ci organizzi un appuntamento io e il colonnello Morici vorremmo fare una chiacchierata è difficile con la sua forma mentis mio padre parla con i carabinieri solo se viene convocato ma sarebbe un colloquio non ufficiale capito diglielo è importante il capitano De Don informa della sua iniziativa Liliana Ferraro che ha sostituito Giovanni Falcone alla direzione degli affari penali del ministero della giustizia stiamo cercando un contatto con Vito Ciancimino però ci serve una copertura politica vorrei che ne parlasse con il ministro Martelli un contatto con Vito Ciancimino ma più che con il ministro forse dovreste parlarne con Paolo Borsellino ministro il capitano De Don mi ha detto che i ross dei carabinieri stanno cercando un dialogo con Vito Ciancimino i ross ma che cosa hanno in mente questi non possono prendere queste iniziative adesso è la DIA che coordina tutte le forze di polizia noi sappiamo per certo che a un certo momento la trattativa si interrompe perché le richieste del cosiddetto papello che comunque a prescindere dal fatto che si tratti del papello esibito da Ciancimino o meno comunque furono formulate da Cosa Nostra perché ce lo dice anche Giovanni Brusca non erano accoglibili dalle istituzioni quindi la trattativa giunge a un biario morto dice Giovanni Brusca in quei giorni avrei dovuto uccidere il calogero Mannino ma mi giunse l'ordine di interrompere il progetto omicidiario perché vi era una cosa più urgente da compiere Trotorrina aveva una premura tremenda che si facesse questo attentato perché bisognava scavalcare come disse Brusca un muro questo muro era Borsellino il 25 giugno Borsellino incontra il colonnello Mori e il capitano De Donno gli riferiscono della trattativa? i due ufficiali hanno sempre detto di no ma perché non gliene parlano? tre giorni dopo Borsellino incontra Liliana Ferraro non so se lei è stato informato ma i rossi si sono messi in contatto con Vito Ciancimino dicono che può aiutarli a fermare le stragi stia tranquilla dottoressa Ferraro adesso ci penso io la dottoressa Ferraro incontra Borsellino all'aeroporto di Fiumicino e gli comunica l'esistenza di quella che potremmo chiamare per semplicità la trattativa cioè gli incontri tra Vito Ciancimino e gli ufficiali del ROS e il dottor Borsellino si dimostra informato della vicenda dicendole non ti preoccupare ci penso io poco dopo da lì passa anche il ministro della difesa Salvo Andò caro Paolo hai sentito? allora adesso tocca a noi scusa Salvo ma di cosa stai parlando? come di cosa? l'informativa dei ROS io tu e il giudice di Pietro siamo i prossimi obiettivi della mafia ma io non ne so niente Paolo ma che cosa dici? ma scusa in procura non ti hanno detto niente c'è scritto pure che a Palermo è già arrivato il tritolo per te tu hai ricevuto l'informativa sei il mio procuratore capo perché non mi hai detto niente? io ho il diritto di conoscere tutte le notizie che mi riguardano a distanza di qualche giorno verosimilmente il 29 di giugno il lunedì successivo c'è l'incontro con la dottoressa Camassa e il dottor Massimo Russo in quell'occasione il dottor Borsellino si lascia andare ad uno sfogo con le lacrime agli occhi dice di essere stato tradito da un amico da cui non si aspettava niente da questo tradimento Paolo Borsellino è sempre più isolato una mattina di fine giugno riceve la visita di Alessandra Camassa e Massimo Russo due giovani magistrati che hanno lavorato con lui alla procura di Marsala e con loro all'improvviso si sfoga non ci posso credere non posso credere che un amico mi abbia tradito Paolo stava parlando con noi ed era seduto dietro la sua scrivania con alle spalle la finestra a un certo punto quasi improvvisamente si alzò dal tavolo e si andò a posizionare su un divanetto piccolo piccolo divanetto poggiando anche i piedi sul divano tipico atteggiamento come di una persona che si vuole un attimo riposare stanca mentre era proprio in questa posizione diciamo rilassata cominciò a lacrimare proprio da una credo da tutte e due le parti da tutti e due gli occhi cominciò a lacrimare e disse non posso credere ma non posso credere che un amico mi abbia tradito mi abbia potuto tradire devo dire che non è stata tanto la frase sul momento poi sulla frase ho riflettuto magari qualche tempo dopo qualche istante dopo ma il fatto stesso che il dottore Borsini si che Paolo si mise a piangere io ho pensato chissà cosa gli è successo forse un problema familiare un dispiacere qualche come dire tant'è vero ho considerato uno sfogo privato tant'è vero che neanche ho avuto la reazione di dirgli ma Paolo di che cosa stai parlando lei ha raccontato questo episodio ai magistrati molti anni dopo come mai? immaginavo di essere convocata per essere sentita insomma io il dottore Ingroia e pochi altri avevamo lavorato per anni con il dottore Borsellino con un rapporto che in una piccola procura si crea un rapporto tra un procuratore della Repubblica e i suoi sostituti particolari ero convinta che ci avrebbero convocato alla procura di Caltanissetta me l'aspettavo è stato leggere i giornali e sapere che la trattativa era gli ultimi giorni di giugno del 92 a farmi dire ma allora non era un fatto neutro era un fatto che comunque andava raccontato l'autorità giudiziare sarebbe stato raccontato vent'anni prima sicuramente se qualcuno mi avesse chiamato all'epoca il pomeriggio del primo luglio Paolo Borsellino è a Roma per interrogare il boss Gaspare Mutolo che si è pentito dopo la strage di Capaci signor giudice io le posso fare il nome di uomini dell'istituzione legati a cosa nostra ma a un certo punto riceve una telefonata è il giorno dell'insediamento di Nicola Mancino e Borsellino è stato convocato per conoscere il nuovo ministro degli interni Mancino ha negato per anni di avere incontrato Borsellino poi ha ammesso che forse si scambiarono una veloce stretta di mano oggetto principale della trattativa sembra essere stato il carcere duro il 41 bis per i mafiosi e in effetti tra il 92 e il 94 i mafiosi al carcere duro passano da 1200 a soli 400 è stato un errore strategico enorme che ha dato la sensazione a mio avviso a cosa nostra che lo Stato fosse debole e fosse disposto a scendere a patti quindi paradossalmente ha alimentato lo stragismo questa politica sbagliata uscito dal Viminale Borsellino torna alla dia e riprende l'interrogatorio di Mutolo ma cosa fa signor giudice si fuma due sigaretta alla volta scusa ma Gasper sono un po' aggettato andiamo avanti alle 16.58 del 19 luglio 1992 Paolo Borsellino salta in aria in via d'Amelio allora Meltroni è chiaro che si aggiungono dei tasselli alle nostre conoscenze perché insomma quello che sembrava quando è stata pronunciata le famose dichiarazioni di Spatuzza sembravano quasi incredibili poi invece sono state riscontrate e si è visto che si poteva riscrivere la storia dell'attentato di via d'Amelio perché non erano stati quelli che erano stati ingiustamente incarcerati ma erano stati altri tra cui Spatuzza quindi Spatuzza ha potuto ricostruire esattamente autodenunciati prego autodenunciati e diciamo che in questo momento ci troviamo di fronte a delle delle testimonianze abbastanza da approfondire per capire come si è arrivati a costruire quello che insomma è un vero e proprio falso bisogna capire se c'è stata la mano di Cosa Nostra se c'è stata la manina diciamo di apparati italiani sicuramente c'è stato un concorso molto complesso di forze che hanno portato all'epoca confessarono di essere loro qualcuno ha confessato qualcuno è stato messo in garezza a sapere confessare quindi c'era tutta una situazione abbastanza complessa riguardo a questo fatto sta che adesso si è capito che non erano stati quelli era stato Spatuzza ed altri che la famiglia che aveva organizzato tutto era quella del Graviano e quindi in qualche maniera c'è questa ricostruzione di un pezzo di verità solo che Spatuzza poi aveva chiamato in causa anche diciamo così degli altri livelli più politici ai guardi che la famiglia e la famiglia Graviano avrebbe fatto riferimento e lì l'affare improvvisamente si copre mentre in questa prima parte i magistrati riescono diciamo ovviamente a trovare tutte le pezze d'appoggio più facilmente poi quando il discorso va sulla politica Spatuzza diventa di nuovo incredibile eccetera eccetera qual è la valutazione che intanto fa Beltroni di questa nuova situazione alla quale siamo di fronte io partirei esattamente dal punto che lei ha cioè partiamo dalla fine della vicenda Borsellino cioè c'è una persona che ha fatto 19 anni di carcere che si chiama Scarantino il quale si è autoaccusato diciamo così di aver compiuto uno dei più efferati delitti della storia della mafia in Italia è risultato evidente dalle indagini fatte che questo non è vero ma è bastato fare alcune verifiche che non sono state fatte nel passato la cosa che mi ha più colpito è che nessuno era andato a vedere con Scarantino e con la proprietaria della macchina della famosa 126 era andato a vedere il luogo dove questa macchina era stata rubata cioè una verifica elementare perché Scarantino si autoaccusa di questo assassino perché fa 19 anni di carcere per fare 19 anni di carcere ci deve essere qualcosa di molto grande o una minaccia o un modo per blandire attraverso i soldi o non so cos'altro e la domanda successiva è chi ha spinto Scarantino ad autoaccusarsi perché se lo ha spinto un pezzo dello Stato allora il film prende tutt'altra connotazione e rifacciamolo indietro il 19 luglio qualcuno entra nella macchina di Paolo Borsellino prende la borsa di Paolo Borsellino fa sparire l'agenda di Paolo Borsellino facciamo ancora un passo indietro Paolo Borsellino va a casa della madre perché la casa della madre non era presidiata Claudio Martelli potrà dire delle segnalazioni che lui stesso aveva fatto al prefetto di Palermo questa storia se la si legge così ha i connotati che diceva prima Salvatore Borsellino cioè io mi sono convinto dal lavoro che stiamo facendo come commissione antimafia e devo dire che per una volta da questo lavoro sta venendo un sacco di materiale che è utile anche per il lavoro dei magistrati che questa storia che noi chiamiamo stragi 92-93 in realtà è una storia fatta di 4 pezzi che vanno esaminati partitamente il primo pezzo è a D'Aura assassino di Falcone assassino di Falcone in quelle circostanze e con quelle modalità 600 kg di esplosivo si poteva uccidere Falcone trovandolo in mezzo a Roma dove lui andava a mangiare invece mettono 600 kg di esplosivo a Capace secondo pezzo quando è partita la trattativa io mi sono convinto che uccidono Paolo Borsellino perché Paolo Borsellino è l'ostacolo principale alla trattativa terzo pezzo le stragi del 93 che è la stessa convinzione della procura di Caltanisetta diciamo terzo pezzo le stragi del 93 le stragi del 93 sono qualcosa che secondo me ha già un connotato più politico cioè la mafia esce dal continente va a mettere le bombe dove né Rina né Provenzano sapeva esistessero dei luoghi importanti San Giorgio al Belabro piuttosto che via di Giorgofili qualcuno gli dice di andare lì mettono queste bombe e queste bombe sono al tempo stesso probabilmente un messaggio per la fase conclusiva della trattativa e un messaggio politico e poi c'è il quarto episodio del quale non si parla abbastanza e che è l'attentato allo Stadio Olimpico quello che l'attentato non riuscito allo Stadio Olimpico che non si è capito se non è riuscito perché qualcosa non ha funzionato oppure è stato bloccato cioè questo è il punto oggi noi sappiamo doveva fare una grande strada oggi noi sappiamo grazie ai magistrati di Firenze che sono grazie al lavoro che è stato fatto a Palermo a Caltanisetta noi sappiamo la data che prima non si sapeva era stata fissata attorno a ottobre ora noi sappiamo che domenica 23 gennaio del 1994 partita romo-udinese via dei gladiatori ora siccome i simboli diciamo nella storia della mafia mettiamolo lì e lasciamolo lì doveva scoppiare un ordigno che doveva far saltare per aria un pullman di carabinieri questo ordigno non funziona cosa che a me sembra stranissima perché sono gli stessi che avevano fatto Capaci Capaci è un'operazione militare gigantesca come Via D'Amelio avevano fatto delle prove addirittura avevano fatto saltare in aria una strada e di questo non se ne sa poco avevano fatto saltare in aria una strada per fare le prove del tentato all'autostrada di Capaci e nessuno ne ha mai parlato è la prima volta che Graviano si muove dal continente per venire a Roma con il suo commando di killer e organizzare questa faccenda questa faccenda non riesce dopodiché un attentato di queste dimensioni non viene più fatto perché non viene più fatto ho detto 23 gennaio il 26 gennaio Silvio Berlusconi annuncia la sua decisione di scendere in campo è una coincidenza temporale però registriamo il 27 gennaio i fratelli Graviano vengono arrestati e finisce lo stragismo perché la mafia che aveva deciso di portare l'attacco così direttamente al cuore dello Stato perché far saltare un pullman di Carabinieri in quel momento significava mandare tutto a gambe perché smette fermiamoci un attimo qui allora due domande per Ingroia due domande iniziali la prima domanda riguarda proprio lui cioè perché Ingroia ha a volto aperto diciamo e in questa tempesta che lo sta coinvolgendo perché tutti i giornali insomma sono concentrati sul suo protagonismo decide che questo è un momento in cui non si può stare zitti e bisogna parlare cosa c'è di così importante che un magistrato come lei deve dire in questo momento a chi la ascolta Ma io credo che il dato più importante è questo come diceva Salvatore Borsellino prima noi siamo a vent'anni da quella terribile stagione e noi dal buio e dal sangue di quella stagione non ci siamo ancora affrancati nel senso che noi ce ne potremmo affrancare soltanto quando avremo la verità su quella stagione e noi fino ad oggi abbiamo avuto una verità dimezzata incompiuta come hanno ben scoperto individuato e stanno ancora lavorandoci sui colleghi di Caltanissetta apprezzo a prezzo depistaggi e coperture sui quali lavorano i colleghi è giusto che lavorino in pace e allora però la verità io sono convinto e credo che ci sono tante dimostrazioni di questo che quando la verità è così difficile quando la verità stenta a venire fuori quando ci sono tante resistenze a farle venire fuori questo è probabilmente dovuto al fatto anzi direi certamente dovuto al fatto che si tratta di una verità imbarazzante specie se vi fu questa trattativa e possiamo dire ormai ci sono anche tante sentenze che lo dicono che questa trattativa vi fu è chiaro che questa trattativa è qualcosa di imbarazzante diciamo così per lo Stato italiano e allora quando è così difficile quando la verità stenta a venire fuori la verità potrei dire che non può essere affidata soltanto alla magistratura perché la magistratura probabilmente non ha neanche da sola la forza per farla emergere questa verità cioè ci vuole un paese che dimostra di volerla quella verità e la mia sensazione è che troppi pezzi del nostro paese anche dentro le istituzioni per troppo tempo questa verità non l'ha voluta e allora mai come in questo momento a vent'anni dalle stragi in questo momento anche così delicato in cui la indagine dei colleghi di Caltanissetta da una parte di Firenze di Palermo dall'altra stanno aprendo questi importanti squarci di verità quando come ricordava Salvatore Borsellino abbiamo un po' tutti la sensazione di di entrare finalmente come dire nella stanza della verità di essere usciti dall'anticamera e entrare nella stanza una stanza però che ha troppi angoli ancora ancora bui che vanno illuminati noi abbiamo bisogno che ci sia un paese che dimostri di volerla quella verità ed è un momento in cui va anche spiegato ai cittadini naturalmente dentro i limiti i diritti di garanzia di tutti gli indagati e tutti gli imputati i limiti ideontologici che ha ogni magistrato che non può parlare naturalmente delle indagini e dei procedimenti in corso però credo che vada richiamata un'attenzione dell'opinione pubblica dando anche informazioni corrette mentre spesso su questo terreno impera la disinformazione ci torneremo su questo ma adesso Martelli ci puoi aiutare anche con una certa distanza che ha preso diciamo dalla politica ma non dai ricordi di una sua appassionante avventura umana ecco però bisogna dire che qui noi abbiamo un coinvolgimento che è un coinvolgimento totale dei protagonisti politici del nostro paese quindi intanto quando noi parliamo di quella vicenda che è intervenuta in quel momento ecco parliamo come dire e su quello vedo che c'è una grande attenzione anche da parte dei giornali di destra che non si fanno diciamo tanti scupoli di parlare dei protagonisti dell'epoca perché insomma sono protagonisti dell'altra parte quindi fino a quando parliamo di quelli fino a quando parliamo di Mancino eccetera tutto va bene se ne può parlare perché o di Conso eccetera però una cosa che lei ci può aiutare a capire è collocare esattamente questo discorso perché noi abbiamo avuto una missione importante fatta da un personaggio che poi è la persona che l'ha sostituita nel Ministero di Grazie e Giustizia che è proprio Conso una persona di indubitabile levatura diciamo sia intellettuale che culturale il quale ha detto no io mi assumo la responsabilità di aver fatto quelle scelte sul carcere duro volevo dare un segnale e pensavo che fosse utile abbiamo sentito invece i magistrati di Caltanisetta dire che sia l'inizio della trattativa fatto dai carabinieri sia queste concessioni successive sono state in realtà delle scelte sbagliatissime che hanno incentivato lo stragismo lei che cosa ne pensa di questo che cosa successe come può spiegare ovviamente nelle poche parole che possiamo usare in televisione quello che accadde parto dalla fine e cioè dalle dichiarazioni di Conso cosa dice Conso dice io e io solo nella mia responsabilità del Ministro della Giustizia ho deciso di togliere dal carcere duro dal 41 bis prima 100 boss mafiosi mi pare a maggio e poi altri quasi 400 a settembre e l'ho fatto perché ritenevo che così facendo si sarebbe in qualche modo assecondato il gioco dell'ala moderata di Cosa Nostra che faceva capo secondo lui a Bernardo Provenzano e quindi si sarebbero fermate le stragi allora nell'ordine bene la missione di responsabilità perché ci consente in ritardo ma io non sapevo niente dice lui di carabinieri di Cosa l'ho fatto perché pensavo che fosse giusto sì ma adesso stiamo soltanto a lui poi veniamo anche ai Ross stiamo soltanto a Corso innanzitutto ci ha detto una cosa che nessuno sapeva e questo già ha dell'incredibile cioè si tolgono dopo appena sette mesi che io avevo introdotto il 41 bis e vi avevo scritto 600 mafiosi boss mafiosi li si tolgono e nessuno dice nulla nessuno ne sa nulla e Conso dice di avere agito solitariamente sta di fatto che invece dalle indagini già fatte già pubblicate sui giornali emerge che tre giorni dopo le mie dimissioni al ministro della giustizia si riunisce un vertice con Conso con il ministro dell'interno Mancino con il capo della polizia Parisi con il direttore degli affari penitenziali Nicolò Amato ed è tutto concentrato su che ne facciamo di questo 41 bis Amato propone di abrogarlo Nicolò Amato propone di abrogarlo Parisi dice beh effettivamente dice di no a noi ha dichiarato di no però insomma sarebbe il direttore delle carceri il direttore delle carceri beh questo sarebbe nelle indagini ah lui ha detto va bene nei verbali devo stare anche a questo di carceri benissimo l'ha fatto a noi quindi va bene ma mi interessa il fatto comunque il dibattito era che tutti discutono intorno al tavolo a ragionare di questo che ne facciamo del 41 bis sette mesi dopo mentre stava dando i massimi risultati perché ciò che ha consentito di non vincere la mafia che non è affatto vinta neanche oggi ma almeno di sgominare la cosca dei corleonesi e disarticolare l'esercito mafioso sono state due cose la legge sui pentiti collaboratori di giustizia la garanzia cioè di protezione a chi tradisce la mafia protezione da parte dello Stato e dall'altra parte chi non collabora con lo Stato il carcere è duro questa tenaglia è quella che ha sgominato non la mafia ripeto ma la cosca dei corleonesi sette mesi dopo i vertici dello Stato sono lì a discutere come disarmarsi unilateralmente perché almeno nei rossi sembrava esserci una contropartita date Cirina e noi vi daremo delle concessioni questo è un disarmo unilaterale dello Stato in cambio di niente nella speranza che si sarebbero fermate le stragi risultato mostrando una tale debolezza le stragi non solo non finiscono ma aumentano perché le stragi di Milano di Firenze per non parlare di quella di Roma se avesse avuto esecuzione avrebbero hanno prodotto altrettanti morti di capaci e di via da meglio quindi questo atto di debolezza dello Stato produce delle conseguenze politicamente catastrofiche sanguinari poi la parte di Conso non è credibile quando dice che lui da solo ha deciso innanzitutto lui da solo escludo che un giurista come lui sapesse che c'era dentro Cosa Nostra un'ala moderata che faceva capo provenzano cosa probabilmente sapevano alcuni analisti che era materia di ecco materia forse di qualche supposizione al massimo ma che certamente non poteva sapere Conso e questa sarebbe stata la ragione e la motivazione del suo agire Posso chiedere una cosa tanto la serata è lunga avrete altre possibilità di completare il vostro ragionamento ma intanto questa cosa di Mancino che ignorava diciamo questi comportamenti del Ross le ha detto che anche quello non è vero perché proprio lei ha chiamato Mancino che è un'altra persona diciamo io voglio dirlo io non l'ho chiamato io l'ho incontrato l'ha incontrato l'ho incontrato non per questo scopo era appena diventato ministro degli interni al posto di Scotti con Scotti avevo collaborato molto bene per due anni volevo vedere se era possibile ristabilire la stessa collaborazione anche con Mancino e gli ho detto varie cose abbiamo parlato di vari argomenti gli ho detto guarda bisogna seguire in Parlamento anche tu lo devi fare con me l'iter del decreto Falcone la conversione in legge del decreto Falcone con tutte le misure di cui abbiamo prima parlato e lui mi ha detto dammi un po' di tempo sono appena arrivato non conosco questa materia cerco di capire e poi poi ho detto la cosa dei Ross poi mi piacerebbe che mi facessi sapere cosa stanno combinando questi Ross ho visto che di recente dice anche che lui non aveva autorità sui Ross ma scusate come chi ha autorità sui Carabinieri quando in funzione di prevenzione i Carabinieri sono una strana creatura se sono poliziere gli ha detto solo cosa stanno combinando o gli ha detto gli ho detto no cosa stanno combinando questi Ross mi pare stiamo prendendo delle iniziative un po' anomale questa è stata perché questa era ma sulle questioni di mafia o in generale sulle questioni di mafia quindi era chiaro l'indirizzo insomma assolutamente sì l'allarme era chiaro assolutamente sì voglio dire che però era nei termini ci tengo a chiarire era nei termini di un allarme sull'abuso di potere dei Ross e sul fatto che agivano di testa propria senza consultare né i magistrati né la dia dalla quale in teoria dipendevano dal momento che il decreto va immediatamente efficace e quindi dovevano rispondere alla dia ma comunque l'allarme dovrebbe essere arrivato messo in questo modo allora Giulia veloce perché devo dire una cosa importante allora siccome diciamo noi abbiamo sentito prima il riepilogo della storia e abbiamo visto che l'iniziativa diciamo allora fu presa dal capitano De Donno e credo che allora fosse colonnello dal colonnello Mori di contattare Ciancimino e di lanciare questo messaggio però a fini investigativi dicono loro e che la mafia potrebbe aver interpretato perché loro l'hanno raccontato la Ferraro ora il capo loro era il generale Subranni no? era lui che sovrintendeva il loro superiore gerarchico il problema è che il Corriere della Sera ha intervistato Subranni e gli ha parlato della deposizione di Agnese Borsellino è chiaro stiamo parlando di una persona anche lì bisogna sempre essere molto capo di che ha una certa età il generale Subranni per quanto insomma persona lucidissima che sa quello che fa e quello che dice però è comunque al telefono non si capisce bene il giornalista sappiamo noi come operiamo insomma siamo incalzanti cerchiamo sempre di avere la notizia però sembrerebbe che il commento di Subranni alle dichiarazioni di Agnese Borsellino sia stato no è una persona che in questo momento non sta molto bene insomma non sa bene quello che dice non sta bene però prima di commentare il commento io quello che vi voglio dire è che fra poco noi la sentiamo Agnese Borsellino e vediamo come sta perché guardate siccome la sentiamo questa deposizione l'unica cosa certa certissima è la lucidità come dire estrema di questa donna quindi la sentiremo e potremo giudicare quindi se non altro non so se l'ha detto veramente se non l'ha detto comunque l'unica cosa certa è che Agnese Borsellino è andata là e ha detto quello che voleva dire punto poi da lì dobbiamo ripartire tu vuoi mettere qualcosa nel frattempo durante la settimana abbiamo sondato la nostra comunità i nostri 260.000 della pagina facebook di servizio pubblico innanzitutto un no fortissimo alla trattativa stato mafia anche se questa potesse servire a fermare ammazzamenti stragi quindi in linea della fermezza dai nostri no al 98% assoluto e poi abbiamo chiesto di completare una frase e cioè la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna dell'Utri perché e abbiamo lasciato la risposta aperta le prime due sono state perché siamo un paese di impuniti e la seconda perché della mafia si combatte solo l'ala militare e questo è quanto e invece lanciamo subito la nostra domanda di stasera e cioè se lo Stato oggi ha tagliato ogni legame con la mafia quindi capire oggi bene allora io darei la pubblicità e attenzione non vi muovete perché subito dopo sentiremo senza nemmeno che io la presenti la voce di Agnese Borsellino l'indomani lui Paolo quando va in ufficio la prima cosa che pensa di fare è di incontrare nello studio del procuratore il Giammanco il quale si giustifica dicendo non l'ho detto a te perché era interessante mandare la lettera alla procura di Caltanissetta che è la sede competente e qui Paolo perse le staffe perché era inconcepibile che lui non sapesse nulla e questa cosa la gliela riferì Paolo? si 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 è venuto a casa sconvolto perché quasi non credeva ai suoi occhi non era amato assolutamente in procura a mio merito mi ha accennato qualcosa che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato ma che durava davvero un po' di tempo questo discorso della trattativa mi interessava saberlo quando è questo riferimento che fa Paolo? dopo la traccia di Capasci si dice che c'era un colloquio tra la mafia e alcuni pezzi infedeli dello Stato e questo discorso non si riesce a collocare al tempo all'incirca verso la metà di giugno mi dice che c'è questa contiguità tra mafia e pezzi degli altri dello Stato mi fa stare a dormire con la stagenda abbassata della stanza da letto e c'era tanto caldo perché mi dice dal castello ti leggo con un cannocchiale potentissimo ci possono vedere dentro casa l'ho visto turbato e ho chiesto cosa c'hai hai pranzato oggi perché non era venuto a pranzo ho detto ho visto la mafia in diretta e fra tante cose mi hanno riferito che il generale su plan si è punciuto è una cosa che io non mi sarei mai immaginata né poteva mio marito immaginarsela così me l'ha riferito sempre sbalordito di quello che gli era stato raccontato però io non ho chiesto chi te l'ha detto ma lui l'ha detto in maniera non serena ma certa era turbatissimo turbatissimo e quando gliel'hanno detto addirittura dice che ha avuto colante di vomito perché per lui l'arma e chi la compone chi ne fa parte era sacra e intoccabile è come se me l'avesse detto ieri c'è qualche altro particolare che posso venire alla mente rispetto a questo discorso della trattativa alla vicenda di Ciancinino che lei ricordi? no io mi hanno detto ma non so se è vero quando è morto mio marito Ciancinino era a Roma penso un albebbo forse gli arresti domiciliari non saprei e ha surato una bottiglia di champagne per festeggiare la morte di mio marito le disse nulla su questo incontro che ebbe seddo un incontro con il ministro se l'aveva conosciuto il nuovo ministro era stato chiamato mentre interrogava Muto questo lo ricordo come se fosse ieri come ricordo che Paolo mi disse materialmente mi ucciderà la mafia ma saranno altri che mi faranno uccidere la mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno queste sono parole che sono scoltite nella mia testa e sino a quando sono in vita non potrò dimenticarle proprio messi qui io e lui e mi uccideranno quando altri lo consentiranno sembra abbastanza improbabile che ci troviamo di fronte a una persona confusa mi sembra una persona molto chiara nella sua determinazione e nella sua testimonianza e non siete perché dovrebbe raccontare una cosa falsa no si tratta sempre di una testimonianza ovviamente soggettiva però è chiaro perché avrebbe dovuto raccontare davanti ai magistrati una cosa inventata assolutamente fondata su un ricordo vero direi che è abbastanza impensabile però diciamo ovviamente non vuol dire che quello che lei racconta è tutto vero cioè ci possono essere delle cose che vanno però che lei racconta ma che lei lo racconta mi scusi cosa sta dicendo non ho capito che quello che racconta Agnese non è tutto vero dovrebbe inventarsi delle cose per quale motivo no 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 meno lo vorrei spiegare allora l'affermazione lo spiego subito perché l'affermazione è importante il fatto che lei lo racconti con spirito di verità è fuori discussione poi diciamo la questione se il generale Subranni sia punciuto nel senso che è compromesso con la mafia oppure se Borsettino volesse dire semplicemente qualche cosa che sarà appunto con un ago cioè punciuto vuol dire una cosa ben precisa nel linguaggio mafioso vuol dire affiliato alla mafia questo vuol dire io dico che questo è oggetto di verifiche di affiliazione alla mafia questo è oggetto di verifiche che non basti la parola di Agnese però diciamo è la moglie di un magistrato che sta dicendo che Borsellino ha detto questo punto la verifica di quello che ha detto va comunque fatta sotto il profilo giudiziario questo ho detto e insomma e questo confermo è una cosa indubitabile anche perché Borsellino dice mi hanno detto che è punciuto quindi è lei che racconta una cosa che ha detto lui che ha saputo da un altro che non sappiamo da chi questo era il senso quindi la verifica la verifica la verifica va a compiuta non stiamo accertando la verità dei fatti stiamo dicendo che quello che dice Agnese Borsellino è indubitabilmente vero diciamo nel suo ricordo questo è il punto fondale però non è che è una sentenza ho detto questo la verifica di Dantoro volesse semplicemente introdurre un minimo di cautela perché in ogni processo le affermazioni le testimonianze dirette hanno un peso le testimonianze del relato ne hanno metà di peso ma questo può poi andare sul piano per un affermaggio di Agnese non è che dobbiamo fare un dibattito su questo è così e basta non è oggetto di dibattito è semplicemente così sono due livelli diversi la verità della testimonianza del Niente Borsellino e la lucidità di questa testimonianza che è fuori discussione appunto sicuramente non ha l'Alzheimer come dice su Brani esatto anche per l'Alzheimer fa riaffiorare i ricordi però i processi si devono fare dove si fanno quello che volevo chiedere a Ingroia è questo questa convinzione che c'è nel pubblico che ci segue da casa il nostro pubblico in particolare che il problema avanza ogni volta che si chiama in causa la politica mentre quando ci si limita l'ala militare tutto sommato grandi reazioni non ci sono frase che lei ha sintetizzato mi sembra con un'espressione il problema non è il reato il problema è sempre l'imputato cioè quando l'imputato è di un certo tipo le cose si complicano è così oppure no beh purtroppo è sempre è stato così speravamo che non dovesse tornare ad essere così ma anche le vicende le polemiche degli ultimi giorni mi pare che lo confermino è stato così proprio per Falcone e Borsellino perché erano tutti a sostenere Falcone e Borsellino fin tanto che il maxiprocesso investiva i capi mafia ma appena le indagini cominciarono a salire di livello appena vi furono i coinvolgimenti dell'ex sindaco di Palermo Vito Cencimino dei potenti cugini Nino Ignazio Salvo e dei cavalieri del lavoro di Catania cominciarono i guai si scatenarono le polemiche improvvisamente Falcone e Borsellino diventarono dei sceriffi così a quel tempo la parola giustizialista non esisteva si utilizzava la parola giudici sceriffi ma la sostanza è la stessa e si ritenevano messe in pericolo le libertà di tutti i cittadini perché venivano strumentalizzate a fini politici i processi di mafia queste erano le accuse pari pari che venivano fatte all'epoca a Falcone e Borsellino sono morti Falcone e Borsellino ahimè sembra che si ricada nello stesso vizio spesso e per cui i magistrati sono bravi o quando sono morti o quando si occupano soltanto di mafia militare la Cassazione vuole aggiungere qualcosa? prego no in particolare le stavo introducendo immagino il tema sul concorso esterno senza diciamo tornare nel merito di una vicenda giudiziaria ancora aperta ma parlando soprattutto del dibattito chiamiamolo così che si è scatenato intorno più che altro diciamo la caccia al magistrato che si è scatenata subito dopo il riferimento alla caccia ai magistrati della procura di Palermo in particolare ma comunque al di là di questo non voglio parlare di vicende che mi riguardano troppo personalmente ma certo è che la la mia frase che non è questione che riguarda la figura del reato ma riguarda l'imputato credo che sia una dimostrazione del fatto che oggi in questo momento nel 2012 ci sono in carcere scontando una condanna definitiva molti imputati che sono stati condannati per concorso esterno ma sono dei non dico illustri sconosciuti ma degli uomini non potenti ci sono piccoli amministratori imprenditori che hanno agevolato l'organizzazione mafiosa piccoli omeidi imprenditori che hanno agevolato l'associazione mafiosa funzionari di polizia insomma un'ampia gamma diciamo di colletti bianchi che sono stati imputati e condannati per concorso esterno per l'associazione mafiosa ed è sempre andata bene la figura del reato di concorso esterno quando ha investito questi uomini quando l'imputato è un po' più potente degli altri si scatena il diluvio volevo chiedere se è vero perché era un po' confuso insomma il discorso siccome la Cassazione ha rinviato in appello il processo dell'utri quindi non è che ha cancellato il processo ma ha disposto un nuovo giudizio per dell'utri ritenendo che non fossero stati come dire pienamente rispettati i diritti della difesa ma nel senso che insomma il procuratore ha voluto rimarcare come deve essere chiara l'accusa per poter consentire a chi è accusato di difendersi questo è il concetto tradotto diciamo in maniera un po' volgare diciamo da parte mia però è vero che lei ha detto ma insomma ha ribadito che dell'utri dal suo punto di vista era ambasciatore della mafia a Milano riprendendo forse quella famosa intervista di Borsellino di cui il nostro pubblico conosce bene tutti i dettagli allora andando per ordine perché diciamo la benessere appunto vorrei essere preciso non essere equivocato anche se tanto c'è chi sempre cerca intenzionalmente e strumentalmente di equivocare e della sentenza della sentenza della Cassazione e delle motivazioni della sentenza della Cassazione noi non possiamo dire nulla per il semplice motivo che non conosciamo ancora la motivazione noi conosciamo però il dispositivo il dispositivo cosa dice che viene annullata la sentenza d'appello con un rinvio ad un'altra sezione della Corte d'appello allora bisogna spiegare a chi non conosce diciamo bene il codice di procedura penale che questo significa non che l'imputato Marcello Dell'Utri sia stato dichiarato innocente se non addirittura perseguitato inutilmente per più di un decennio come si è detto non è stata una dichiarazione di innocenza perché altrimenti i giudici della Cassazione avrebbero annullato senza rinvio la sentenza d'appello e sarebbe chiuso definitivamente il procedimento dell'Utri la sentenza invece annulla con rinvio e perfino lo stesso procuratore generale Jacoviello ha motivato così la sua richiesta alla fine per contraddittorietà della motivazione diciamo meglio perché la motivazione non andava bene non perché fosse sbagliata in sé la condanna quindi semplicemente viene cancellata la condanna d'appello si azzera si torna dal processo d'appello e abbiamo una condanna di primo grado a nove anni di carcere questo è il momento la sentenza diciamo che è rimasta sopravvissuta doviché leggeremo le motivazioni della sentenza e vedremo quale indicazioni quali indirizzi i giudici della Cassazione daranno i giudici d'appello per il nuovo processo d'appello è questo credo che sia il primo il tema diciamo e la frase l'ha detta quella dell'ambasciatore di mafia l'ha detta o no? andiamo alla frase la frase dell'ambasciatore io ho ripetuto quello che avevo dichiarato avevo detto in aula nel corso della requisitoria del processo di primo grado lei giustamente ricorda riccheggia quella riccheggia sempre quella profetica diciamo intervista di Paolo Borsellino che fu anche parte del processo dell'utile di primo grado l'intervista in cui Borsellino una delle ultime interviste di Borsellino in quale indicò Vittorio Mangano il legame di Vittorio Mangano con Marcello dell'utile come ponte diciamo degli interessi della mafia verso il mondo imprenditoriale milanese ma io comunque quello che disse nella requisitoria è che c'erano degli elementi di prova delle precise risultanze concrete ed obiettive che dovevano determinare a mio parere a un parere dell'ufficio di procura la condanna del senatore Dell'Utri come ambasciatore appunto di Cosa Nostra presso gli interessi degli interessi di Cosa Nostra presso il mondo finanziario imprenditoriale e questo era il senso dell'Utri portatore degli interessi di mafia quello il quale che ha sostenuto questi interessi di mafia e così ha contribuito al rafforzamento dell'associazione mafiosa e su questa posizione mia del collega Gozzo che con me sostenne l'accusa in primo grado i giudici del primo grado i giudici del giudice di Palermo condannano il senatore dell'Utri e io di recente in un'intervista ho semplicemente ricordato quella mia espressione che venne convalidata comunque nella sentenza di condanna di primo grado in quella di seconda allora problema per Veltroni il problema è questo intanto ci troviamo di fronte a una notizia cioè che il titolare dell'azione disciplinare ha praticamente chiesto le carte a Caltarisetta non sappiamo perché sia venuto questo insomma non ne conosciamo le ragioni però è chiaro che c'è un allarme nel senso che potrebbe essere che vanno a studiare queste carte per vedere se c'è come dire un diverso comportamento o no per esempio di Caltarisetta rispetto a Palermo in questo tipo di processi oppure se a Caltarisetta hanno compiuto delle cose loro non si capisce è una situazione allo Stato ancora imperscrutabile ma comunque allarme chiaramente Caltarisetta fa questo ragionamento la procura di Caltarisetta dice noi fino a quando stiamo alla linea Spatuzza Graviano eccetera eccetera riusciamo a identificare un percorso con una certa chiarezza riusciamo a ipotizzare con precisione i reati non è che noi non vediamo il quadro politico e le complicazioni che ci sono in questa vicenda ma sarà molto faticoso arrivare a determinare questo contesto come un contesto di reati e potrebbe perfino insomma un po' una conclusione alla quale sono arrivati pure i giudici di Firenze quando hanno detto sia ben chiaro non è che forse Italia ha organizzato le stragi eccetera queste sono cose che non si possono assolutamente né ipotizzare né provare ma nemmeno ipotizzare però sappiamo con certezza che a un certo punto l'interesse della mafia a rivolgersi a nuovi interlocutori politici viene palesato questo movimento di attenzione verso Milano c'è e loro lo segnalano però è come se una parte della magistratura stesse attenta a inoltrarsi su un terreno che poi gli si potrebbe ribaltare contro come un boomerang mentre da un'altra parte c'è quasi il tentativo di dire ma se non gli diamo che è un po' quello che dice Agnese Borsellino se non gli diamo un perché a certe azioni la verità rimane lontana qual è l'opinione di Veltroni? Guardi vediamo le due questioni che sia dalla sua domanda sia dall'intervento di Groia emergono prima questione il concorso esterno la mafia è prevalentemente una struttura che agisce e che ha potere in ragione del fatto che esistono professioni poteri istituzioni che collaborano con la mafia quindi o abbiamo uno strumento legislativo normativo che ci consenta di intervenire su questa fattispecie di reati che sono difficilmente identificabili col favoreggiamento to core ma che sono di una specie più raffinata e più complessa perché il favoreggiamento dobbiamo dimostrare per che cosa è avvenuto a che cosa è finalizzato ma quello che io vorrei dire siccome si è aperta l'escussione sul concorso esterno è una discussione anche tra persone assolutamente che stanno cioè magistrati non è che stiamo parlando ci sono quelli che la vorrebbero cancellare punto e basta e quelli che invece vorrebbero tipizzare il concorso esterno tipizzare significa approfondire definire renderlo più preciso in verità una tipizzazione già c'è perché ci sono state sentenze della corte di cassazione che hanno già definito più chiaramente la fattispecie del concorso esterno le sezioni riunite la mia opinione io ho contivito quanto ha scritto il professor Carlo Federico Grosso sulla stampa la mia opinione è che se si tipizza il rischio è di fare più confusione e di rendere davvero questo reato difficilmente gestibile quindi io starei concorso esterno con la definizione che è stata data dalla corte di cassazione e veniamo all'altro tema nella discussione che abbiamo fatto prima in effetti mancava un dato cioè noi abbiamo parlato del 92-93 ma che anni sono il 92-93 perché non sono mica anni normali eh no nel 92 succede che saltano per aria la gran parte dei partiti italiani saltano per aria nel senso che si risolvono c'è la crisi del sistema che c'è che c'è la svalutazione della lira nell'autunno del 92 che c'è un nuovo governo il governo Ciampi all'inizio del 93 che ci sono le elezioni amministrative a metà del 93 nelle quali c'è una vittoria della sinistra e e poi nel 94 arriva un nuovo soggetto che si chiama Forza Italia la mafia non è mai stata in cima alle stelle la mafia è sempre stato un pezzo del potere italiano di volta in volta agenzia o di volta in volta anche regista come comincia questa storia questa storia comincia con la daura le menti raffinatissime di cui parlò Giovanni Falcone credo anche a te e poi comincia con l'assassino di Salvolima non ce lo dimentichiamo mai che il primo passo è l'assassino di Salvolima e c'è un'altra circostanza che non si ricorda che il giorno prima dell'attentato e dell'uccisione di Giovanni Falcone su una singolare agenzia di stampa che usciva in quel tempo gestita dal signor Vittorio Sbardella viene annunciato un botto clamoroso e qualche mese prima il ministro degli interni Scotti aveva diffuso a tutte le prefetture una nota di grande allarme perché aveva avuto una segnalazione che rispetto alla quale Andreotti aveva detto stai esagerando è una patacca non destare allarmismo e che invece aveva una sua consistenza quindi stiamo parlando di una fase storica nella quale la mafia perde i suoi riferimenti tradizionali e ne cerca di nuovi cioè Lima Andreotti ne cerca di nuovi in primo luogo in proprio perché loro cercano di mettere su un movimento politico che si chiama Sicilia Libera progetto che abbandonano nella seconda parte del 93 e cominciano a guardare alle novità della situazione politica anch'io credo come la sentenza ultima del processo taglia via che sia sbagliato e assolutamente strumentale dire questa o quella forza politica infatti specie forza Italia ha ordinato le strage non so cos'altro sicuramente no però che questa situazione di incertezza del referente politico della mafia che vede la sinistra vincere e che pensa che questa situazione che si è determinata possa essere per la mafia stessa un elemento di perdita di potere comincia a guardare a quanto di nuovo emerge io se devo dire la verità l'attentato del 94 che altrimenti è inspiegabile perché loro hanno già avuto la revisione del 41 bis a proposito della quale le volevo dire lei prima ha detto che qualcuno ha smentito di aver chiesto questo è un documento ufficiale che posso mostrare perché è pubblico è un documento del 6 marzo del 93 del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che dice nel caso che si decida di rinunciare allo Stato a questi decreti 41 bis l'alternativa che si presenta è quella di lasciarli in vigore fino alla scadenza in essi indicata senza poi rinnovarlo oppure di revocarli subito in blocco mi permetterei di esprimere una preferenza per la seconda soluzione cioè nel 93 su carta intestata della Repubblica Italiana qualcuno proponeva di togliere otto mesi dopo l'assassino di Borsellino l'articolo 41 bis ma la mafia che ha ottenuto quel risultato perché deve fare un attentato in quelle dimensioni che senso ha? il papello era lungo eh? il papello era lungo erano 12 richieste il 41 bis era una sì però era diciamo tra quelle centrali però che senso ha nel senso che non potevano pensare che un attentato di quelle dimensioni non scatenasse una controreazione che inevitabilmente avrebbe travolto la trattatura anche l'assassino di Paolo l'avrebbe scatenata però nonostante quella è stata fatta lo stesso ma quello era un modo quello era uno strumento per accelerare la conclusione ma loro qui l'hanno raggiunto il risultato secondo me la vicenda del 94 è una vicenda che guarda più alla politica strategia delle attenzioni questo vuol dire? sì come tante cose della storia italiana che dobbiamo guardi noi io non sono un dietrologo non credo che l'11 settembre l'abbiamo fatto agli americani e tutte queste robe però io più vado avanti più vengono fuori cose della storia del nostro paese e più penso che abbiamo vissuto in una specie di Truman Show in cui ci hanno raccontato dall'assassino di Pasolini a quello di Feltrinelli alla bomba di Piazza Fontana ci hanno raccontato un sacco di balle e la vicenda della quale stiamo parlando è una tipica vicenda nella quale ci sono mani esterne e depistaggio sistematico voglio arrivare a Borsellino però chiedo una cosa a Martelli il punto è proprio questo cioè intanto cominciamo a liberarci dall'idea che la mafia non ragiona politicamente la mafia ragiona politicamente sa valutare le circostanze sente che il vecchio sistema è finito anzi gli vuole dare un colpo dal suo punto di vista e quindi parliamo dell'assassinio di Lima gli dà un colpo diciamo è finito un'epoca cerchiamone una nuova e quindi abbiamo questo tentativo diciamo della mafia di riposizionarsi politicamente però quando si parla di strategia dell'attenzione viene fuori il discorso che non è solo mafia che poi insomma è un po' questo è il punto un po' chiave diciamo di tutta questa storia perché paradossalmente questa cosa che non è solo mafia lo dice il fronte antimafia ma lo dicono pure un po' Riina diciamo e i suoi guardate che certe cose non possono essere lette come iniziativa mafiosa quindi viene fuori questo segnale da due mondi contrapposti e diversi non può essere solo mafia quindi vuol dire apparati dello Stato deviati come vogliamo che hanno agito dentro questo contesto che cosa dice Martelli di questo? Complicato e non è così semplice dare una risposta non ho le certezze che ha Walter una delle ultime notizie che ha avviato meglio è stata identificata per esempio una novità c'è la presenza hanno certificato che c'era un agente diciamo che era un agente che finalmente gli hanno dato un nome un cognome ma questo questo per esempio emerge con assoluta chiarezza nella vicenda della Daura non so se ne avete parlato in altre trasmissioni ma lì è assolutamente certo che ci sono l'attentato a Falcone l'attentato il fallito per fortuna l'attentato a Falcone mi pare siamo nell'88 nell'agosto dell'88 lì è certo che ci sono sia manine della questura di Palermo sia dei servizi in combutta con mafiosi questo è certo allo stato attuale come è molto probabile che nel pentimento molto impedimento nella confessione di Scarantino ci sia la mano ancora della questura di Palermo come certamente i ROS fanno parte o almeno alcuni ufficiai dei ROS fanno parte di questo tentativo che attenzione però non possiamo neanche liquidare come se fosse una sciocchezza il dato di fatto che i ROS sono poi quelli che catturano orina allora uno deve sopporre una cosa più complicata e a questa io ho pensato più volte e cioè che ci fosse qualche cosa un'area centrale grigia che poteva servirsi di pezzi di mafia e di apparati che a un certo punto ha pensato di sbarazzarsi degli estremi far fuori scotti e martelli dalla giustizia e dagli interni e far fuori riina da parte della mafia e riprendere le antiche consuetudini di una pacifica convivenza più o meno pacifica convivenza questo mi pare già più credibile che sia tutto come dire frutto come non sia nel 92 la situazione è quella che Walter ha descritto e forse ancora più grave ma non siamo nel 69 non è Piazza Fontana è un'altra cosa è un'altra cosa in cui c'è la forza legale della magistratura che con abusi e unilateralità e con molta ingiustizia sfida il potere politico c'è l'irruzione della Lega c'è lo squagliamento dei partiti di governo che né riescono a governare la situazione né hanno la forza di fare un passo indietro e di cambiare registro è un contesto diverso quello del 90 cosa dice Borsellino io ritengo che le cose stiano così che dal 92 in poi dall'assassino di Paolo in poi i governi che abbiamo avuto in Italia abbiamo continuato a pagare le cambiali che erano state contratte nel corso di questa trattativa e questo non solo il governo di centro-destra e di destra ma anche il governo di centro-sinistra perché ricordiamo che certi provvedimenti c'è la chiusura delle supercarceri di Pianosa e della Sinara la legge violante sulla privacy che rese inutilizzabili i tabulati telefonici al periodo delle stragi ancora la legge napoletano Fassino che praticamente snaturò la legge sui collaboratori di giustizia perché mise quel limite di 180 giorni il limite dei 180 giorni che è stato anche utilizzato stava per essere utilizzato per togliere la possibilità spatuzza di parlare e di continuare a fare le sue rivelazioni ancora la legge sul rito abbreviato che praticamente rendeva possibile un'altra delle richieste del papello quello di far evitare l'ergastolo agli stragisti ancora la legge che era stata proposta da da violante sulla dissociazione la stessa cosa che era stata adoperata i terroristi io ritengo che siano tutte nient'altro così come altri provvedimenti che sono stati poi presi in mezzo alle tante leggi di persone presi dal governo di destra non sono altro che provvedimenti fatti per pagare delle cambiali credo che ancora oggi noi continuiamo a pagare queste cambiali e credo che anche le stragi di Via dei Giorgofili di cui io sinceramente mi sarei aspettato che stasera ci fosse qui un rappresentante dei familiari di Via dei Giorgofili piuttosto che una persona che verrà qui a reclamare per il padre il pagamento di un ulteriore cambiale per evitare che possa morire in carcere io ritengo che la stessa stragi di Via dei Giorgofili non sia stata altro che una cosa messa in atto per alzare il prezzo della trattativa e d'altra parte non era ipotizzabile altro come può lo Stato pensare di trattare con l'antistato quando da una parte c'è lo Stato che può diciamo concedere i provvedimenti legislativi ma dall'altra parte si parla con dei criminali assassini con della gente che è abituata a fare certe cose e quindi non c'era da aspettare altro che succedesse quello che è successo cioè che per alzare il prezzo della trattativa venissero messe le bombe in Via dei Giorgofili con l'indicazione da parte di chi magari i mafiosi non sanno neanche che cos'è l'Accademia dei Giorgofili magari lo può sapere chi sa che lì c'è una raccolta di libri antichi magari lo può sapere qualche bibliofilo quindi non erano solo loro che cosa c'è in Via dei Giorgofili non erano solo i mafiosi ma sicuramente non erano i mafiosi i mafiosi come potevano pensare di portare fare degli attentati in posti che i mafiosi neanche conoscono delle basiliche del Vaticano in Via dei Giorgofili che non sanno neanche cos'è l'Accademia dei Giorgofili è chiaro che a Milano in Via Palestro all'Accademia di Belle Arti ma la gente che non si è mai mossa e non si vuole muovere dalla città se non per andare a fare a gestire i traffici per quella che è la globalizzazione della mafia della criminalità che purtroppo in atto che cosa ne può sapere di certe cose io ritengo che ancora oggi si continuano a pagare le cambiali non soprattutto il governo di centro-sinistra ma forse è più anche il governo di centro-sinistra negli anni immediatamente successivi alla strage di Via D'Amelio allora siccome come Borsellino ha anticipato questa diciamo così questa polemica ovvio che noi diciamo qui abbiamo sempre seguito siamo forse una delle televisioni che ha seguito più da vicino l'evoluzione di questi argomenti però insomma le critiche sono sempre bene accolte da noi non ci siamo mai chiusi a questo però voglio dire questo è chiaro che lui faceva riferimento al fatto che noi abbiamo intervistato e fra poco sentiremo il figlio di Provenzano Angelo Provenzano è la prima volta che un figlio di Provenzano parla davanti a una telecamera e io credo in generale di un boss di questa levatura allora se noi facciamo un appello alla gente a parlare dobbiamo stare attenti sempre ad ascoltare cioè questa è la mia posizione può essere sbagliata Cicchito non è venuto perché oggi ci sarebbe dovuto essere qui Massimo Ciancimino io mi alzerei da questa sede e me ne andrei perché qui si da spaccio al figlio di Provenzano allora però insomma se noi ogni volta che c'è qualcuno che parla un linguaggio diverso dal nostro ci alziamo ma ce ne andiamo e allora viva Cicchito e Cicchito non è il linguaggio diverso dal nostro è qualcuno che viene qui a richiedere il pagamento di una cambiale nei confronti di suo padre no 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 io credo che noi qualunque cosa lui dica pure il pagamento di una cambiale sarebbe una grossa notizia purtroppo non dice questo ma dice altre cose quindi farei una cosa sentiamolo così facciamo prima e poi dopo polemizziamo su quello che abbiamo sentito che è più concreto sentiamo io le chiedo la sua opinione come cittadino ma è chiaro che diciamo lei mi parla come Angelo Provenzano figlio di Bernardo Provenzano che sarebbe stato l'interlocutore dello Stato no il punto è che queste sono domande che alla fine ne potrei ne può rispondere solo esclusivamente mio padre avendo fatto caso a quello che è successo a portare la ginestra mi mi sembra un copione che si recita che viene recitato una seconda volta e indubbiamente non è non è su queste cose che si può fondare uno Stato che ti dà sicurezza o che ti dà la possibilità di avere una fiducia incondizionata perché gli errori si fanno siamo ovviamente d'accordo però quando qualcosa parte dall'interno dello Stato poi si rischia di perdere la fiducia nell'istituzione ed è un po' fa un po' paura questo anche a lei? certo qual è il suo rapporto con le istituzioni? del rispetto chi sono? Falcone e Borsellino per lei? due vittime immolate all'altare della patria comunque sono due vittime della mafia comunque sono due vittime della violenza la mafia le fa schifo? tutti i tipi di violenza mi danno fastidio lei ha detto che la figura di suo padre è stata mitizzata perché secondo me il primo mito di Bernardo Provenzano è il mito della titanza quello ha contribuito sicuramente se mio padre non fosse stato latitante per 43 anni mio padre molto probabilmente si sarebbe preso qualche gastrono in me se mio padre fosse stato catturato dopo 23 anni di latitanza probabilmente io non sarei nemmeno nato ci sarebbe anche stata l'opportunità di arrestare suo padre a quanto pare prima di quando è venuto poi l'arresto nel rispetto dei ruoli è normale che ci fossero degli inquirenti che cercassero mio padre giusto? se mi apre lei queste parentesi io non posso fare a meno di chiederle c'è lo verso che dice che suo padre gli avrebbe detto me lo faccia dire che era tranquillo che nessuno lo cercava forse in tutto questo quello che non passa non si capisce ma perché non lo si può capire in tutto questo io ho 16 anni dalla mia vita passati a latitante soltanto per il fatto di essere esistito soltanto per essere nato e essere nato col cognome provenzano poi se questi 16 anni di latitanza se viene qualcuno mi dirà questi 16 anni di latitanza li dai a tuo padre io rispondo forse sì e forse no quando ha visto l'ultima volta suo padre? due mesi fa fisicamente bene o male anzi si mantiene abbastanza bene non posso dire bugia ma neurologicamente è diventato un dramma cioè lei sente che non è presente mentre che stiamo parlando possibilmente avviene un calo dell'attenzione oppure un discorso viene lasciato lascia il discorso a metà e non riesce più a riprenderlo quindi perde il filo lo perde in maniera anche consistente ci possono essere lapsus che può capitare a chiunque ma in questo caso è forte tanto è vero che poi si stizzisce lui stesso per non poter continuare il discorso perché è come se avesse una sorta di consapevolezza di non esserci potrebbe farlo apposta per ottenere un riconoscimento di insanità mentale e liberarsi di una serie di pesi io concordo io concordo con la sua linea per questo dice voglio che venga periziato e per questo non abbiamo mai nominato periti di parte dove lo dovrebbero mettere secondo voi dentro un centro clinico attrezzato è questo il punto no il punto è un altro quello che io chiedo è nei fatti nei fatti praticamente cosa dovrebbe avvenire nei fatti ma nei fatti quello che interessa è che lui abbia se lui è ancora in condizione di capire e di poter pensare a se stesso da solo non ho nulla da chiedere ma se come penso io c'è qualcosa che non va perché comincia a perdere colpi da un punto di vista neurologico da un punto di vista fisico perché è rallentato quello che occorre non lo posso stabilire io perché io non sono lo stato o non sono la persona adatta a stabilire ma quello che chiedo è la dignità come la possiamo esplicare noi siamo consapevoli che sarà difficile che mio padre possa essere scaccerato noi quello che stiamo chiedendo e che continuiamo a chiedere è che mio padre venga curato quali sono nero su bianco le patologie di suo padre che portano lei oggi qui a decidere di esporsi per la prima volta per denunciare questa cosa un decadimento neurologico tale da non poter permettere la somministrazione di una chemioterapia per la sopravvenuta recrudescenza della tumore alla prostata il conto alla rovescia è cominciato se mio padre pagando quello che è meritato immeritato giusto sbagliato non tocca a me perché ripeto ho sempre detto sono di parte io sono il figlio ma oggettivamente sta scontando una pena se diventa incapace di intende di volere quindi incapace di poter scontare la pena perché per tante altre persone è possibile che ciò avvenga perché ci deve essere la discriminante provenzano semplicemente perché lui si chiama provenzano è un detenuto eccellente è un prima di tutto è un detenuto gli sono venuti meno alcuni diritti ma rimane sempre cittadino italiano poi sarà stato cosa membro di cosa nostra sarà stato capo d'accordo ma stiamo parlando sempre di un essere umano d'accordo devi farti carcere devi spiare la tua condanna la dignità umana la possiamo rispettare o no la mia domanda è questa io mi rendo conto che per molta gente si alza potrebbe pure alzarsi in questo preciso momento e dire sì ma per quello che lui ha fatto merita questo ed altro me ne rendo perfettamente conto a tutti questi dico bene se mio padre è quello che è e ci sono delle verità processuali che lo affermano e ora è arrestato c'è un posto vacante chi si sente di far parte di uno stato che non non applica i diritti può prendere posto su quella poltrona quella che ha lasciato suo padre certo perché altrimenti dobbiamo metterci in testa che dobbiamo rispettare le leggi è un concetto che hai affrontato mai con suo padre sinceramente pochissime volte e come è arrivato a questa formazione diciamo se è una cosa che le appartiene realmente quello che mi ha detto assolutamente parte parte mi deriva da lui nel rispettare cioè quindi il senso del rispetto in assoluto poi ovviamente io abito vivo in Italia a Corleone principalmente in Italia sono cittadino italiano a meno che non mi cambio la cittadinanza e resto un cittadino italiano sono soggetto a rispettare le leggi di questo stato se sbaglio pago e se si stabilisse che suo papà perde colpi ci sarebbe l'immediata sospensione di tutti i processi lei se l'immagina la reazione dell'opinione pubblica se dovesse accadere una roba del genere cioè io la memoria poi mi dice se a voglia qual è la sua del giorno dell'arresto di Bernardo Provenzano c'era la questura circondata dalla folla che urlava animale animale insomma ci avrà pensato a quello che potrebbe essere il contraccolpo eventualmente di tutto questo se è così scomodo qualcuno abbia il coraggio di istituire la pena di morte anche ad persona ma che ma che ci si prenda cioè che chi fa questo prenda anche la sua responsabilità violenza genera violenza quindi che cosa dobbiamo fare ci accaniamo io la mia posizione l'ho presa tanti anni fa rispetto a suo padre in questo senso rispetto a tutto e lui è fiero delle scelte che ha fatto lei credo di sì siccome non voglio interrompere assolutamente una discussione su questo però diamo un ordine io vorrei dare solo due notizie la prima che i periti del tribunale hanno esaminato la situazione dicono che Provenzano sta molto male ma è perfettamente in grado di intendere e di volere quindi questa è la prima notizia la seconda il mio unico commento diciamo flash è che non si può essere cioè si può non rinegare il padre assolutamente questa è una posizione che si può assolutamente avere però non si può essere neutrali se si rispettano le leggi l'invito diciamo alla collaborazione a parlare a mettere a disposizione della magistratura tutto quello che si sa un figlio lo potrebbe tranquillamente rivolgere non può essere neutrale tra lo Stato e la mafia cioè se uno che rispetta le leggi deve essere contro la mafia quindi anche volendo bene a suo padre deve dire sì però io ti chiedo di parlare di dire tutto quello che sai se no è una posizione che non è credibile allora però farei una cosa intanto diamo la pubblicità che così non vi interrompo dopo di che Marco fa la sua valutazione e dopo di che commentiamo anche quello che abbiamo visto perché credo che una cosa la si può dire poi io non sono non sono capace di decodificare insomma se ci sono cose un po' strane che vengono dette a me sembra una posizione abbastanza chiara cioè quando voi rispettate i diritti di tutti c'è una minaccia dentro c'è questo parlava in chiaro linguaggio mafioso questa persona le conoscete il linguaggio della mafia quello è il linguaggio della mafia e nient'altro bene non da non solo ma sono gli stessi discorsi che io ho sentito fare per Contrada quando Contrada doveva essere messo fuori dalla galera dicevano che stava per morire Contrada è stato messo fuori è andato ad abitare a 300 metri dalla casa di mia sorella mia sorella è morta per un tumore già da un anno Contrada è ancora lì a casa sua piuttosto che in galera dovrebbe essere allora pubblicità e subito dopo Marco Travaglio quando si sente parlare di processi Cassazione procuratori generali concorso esterno la tentazione è sempre quella di allontanarsi di dire tanto non ci capirò mai niente ed è su questo che si punta per ottenere l'effetto disinteresse e amnesia in realtà è tutto abbastanza semplice i processi in Italia funzionano così che ci sono due gradi di giudizio di merito dove i giudici valutano le prove cioè i fatti e per quei fatti Dell'Utri è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa cioè per complicità con la mafia pur non facendone parte dall'interno sia in primo grado nove anni sia in appello a sette anni gli hanno fatto lo sconto in appello perché i giudici d'appello hanno ritenuto non provato che avesse continuato ad appoggiare la mafia dopo il 92 quando creò Forza Italia e diventò un politico mentre è provato hanno ritenuto così il reato prima quando era il segretario inizialmente e poi un importante manager del gruppo il terzo grado la Cassazione non si occupa dei fatti non giudica più il merito ma la legittimità cioè se i giudici hanno interpretato bene la legge se non lo ritiene come in questo caso la Cassazione annulla la sentenza o senza rinvio cioè il processo muore lì oppure con rinvio perché si deve fare un altro processo d'appello per Dell'Utri il sostituto procuratore generale Francesco Iacoviello ha proposto di annullare con rinvio e la Cassazione ha annullato con rinvio quindi adesso nel nuovo processo d'appello Dell'Utri potrebbe essere o condannato o assolto poi si tornerà in Cassazione sempre che si faccia in tempo entro il 2014 altrimenti scatta la prescrizione e fin qua tutto normale è normale anche che il procuratore generale chieda di annullare una condanna che non lo convince perché il procuratore generale come il PM non è affatto la pubblica accusa come dicono molti ignoranti è un organo di giustizia imparziale se una condanna non lo convince la critica e chiede di annullarla ma in Cassazione sono successe cose strane altre cose strane non quella il processo Dell'Utri è arrivato in Cassazione nel febbraio del 2011 e ha riposato lì in pace per 13 mesi essendo stato fissato soltanto per il marzo il 9 marzo di quest'anno così è finito nelle mani di un presidente che si chiama Aldo Grassi allievo prediletto di Corrado Carnevale che era detto l'ammazza sentenze Carnevale perché annullava centinaia di condanne di Boss che con tanta fatica Falcone e Borsellino avevano fatto condannare Carnevale fu intercettato mentre parlava con Grassi e insultava apertamente Giovanni Falcone dandogli dell'incapace dicendo che infilava surrettiziamente sua moglie Francesca Morvillo nei collegi d'appello per tra virgolette fregare qualche mafioso e Grassi non faceva una piega possibile che con tutti i giudici che ci sono in Cassazione circa 300 il processo a Dell'Utri sia finito proprio a lui coincidenze poi c'è il sostituto procuratore generale Iacoviello è una persona per benissimo ma da anni si batte contro il reato di concorso esterno nel 2008 in una rivista giuridica ha addirittura scritto in questo paese non sappiamo o forse lo sappiamo se non se ne può più della mafia o dei processi di mafia possibile che su 80 procuratori generali sostituti in Cassazione il processo a Dell'Utri per mafia sia finito proprio a lui coincidenza nella requisitoria che sembrava una ringa Iacoviello ha detto al concorso esterno non ci si crede più e se l'avesse detto al bar pazienza ma l'ha detto in un processo per concorso esterno in quella Cassazione che ha condannato decine di persone per concorso esterno e ha confermato quattro volte a sezioni unite in vent'anni l'esistenza del concorso esterno forse non ci ha pensato ma le sue parole sono un segnale devastante per i magistrati di frontiera che rischiano la pelle processando i colletti bianchi nelle zone di mafia e viene da chiedersi a questo punto perché mai un pentito o un testimone dovrebbe parlare ancora delle complicità esterne alla mafia visto che rischiando per giunta la pelle visto che i processi per concorso esterno sembra che non si debbano più fare allora che parli a fare che rischi a fare il tutto mentre lo diceva Ingroia siamo a un passo da quella verità sulle stragi e sulle trattative fra Stato e mafia sembra un Tana libera tutti infatti non soltanto Dell'Utri ma anche Contrada condannato per concorso esterno a dieci anni e Cosentino imputato per concorso esterno in Camorra hanno subito fatto i complimenti al procuratore generale sostituto chiedendo il BIS hai ragione lo diciamo anche noi non esiste questo concorso esterno assolveteci tutti la casta politica e la stampa al guinzaglio salvo rarissime eccezioni ne hanno applaudito dal PDL a Violante hanno detto che questo concorso esterno andrebbe o abolito o riformato perché oggi può capitare a chiunque di finire dentro impigliato anche soltanto per aver incontrato casualmente un mafioso al bar sono tutte balle il concorso esterno come hanno stabilito quattro volte le sezioni unite della Cassazione non è né un reato di frequentazione né di amicizia né di incontro occasionale richiede il do ut des cioè bisogna dimostrare che tizio riceve favori dai mafiosi e in cambio fa favori ai mafiosi rafforzando la mafia senza il do o senza il des non c'è concorso esterno figurarsi gli incontri per esempio è concorso esterno quando qualcuno procura un alibi falso a un mafioso il medico che fa i certificati falsi per far uscire di galera il mafioso il poliziotto che avverte il mafioso dei blitz il giudice che assolve il mafioso sapendolo colpevole l'avvocato che fa il postino degli ordini da dentro il carcere a fuori dal carcere il banchiere che ricicla i soldi l'imprenditore che gli fa da prestanome o che gli dà i subappalti per l'accusa Bannino frequentava mafiosi riceveva voti dai mafiosi non si è dimostrato che cosa ha dato in cambio ai mafiosi e infatti dopo varie sentenze contradditorie è stato assolto Contrada invece riceveva soffiate dai mafiosi che conosceva benissimo latitanti così faceva bella figura come poliziotto perché ne sapeva sempre di più degli altri e in cambio avvertiva i mafiosi latitanti che stavano andandoli a prendere così quelli scappavano sempre un momento prima e non li acchiappavano mai e lui è stato condannato perché c'era il Doh Des a dieci anni il concorso esterno non l'hanno inventato adesso esiste da sempre per tutti i fenomeni di criminalità organizzata già nel 1875 la Cassazione del Regno condannò alcuni palermitani per concorso esterno in brigantaggio poi ci fu il concorso esterno in terrorismo negli anni di piombo per chi non era delle BR ma aiutava le BR poi nell'87 nel maxiprocesso Terra a Cosa Nostra proprio Falcone e Borsellino inaugurano il concorso esterno in mafia per i colletti bianchi che le hanno garantito cent'anni e più di impunità il boom dei concorsi esterni si registra dopo le stragi del 92 perché solo dopo le stragi i pentiti di mafia cominciano a parlare dei politici come Andreotti dei poliziotti infedeli come Contrada e degli imprenditori collusi come Dell'Utri e siccome ci sono di mezzo i politici si scopre improvvisamente che il concorso esterno non va bene basta con questo concorso esterno è vago non esiste eccetera solo che all'epoca lo dicevano gli imputati non i procuratori generali persino Carnevale riteneva che il concorso esterno esistesse non per sé naturalmente per gli altri poi è arrivato il procuratore generale sostituto e a Coviello che al processo Dell'Utri tra le altre cose ne ha dette tre notevoli primo dice il capo di imputazione è solo una paginetta senza fatti e non si spiega in quella paginetta dove sarebbe il concorso esterno di Dell'Utri solo conoscenze e frequentazioni con mafiosi ma forse non ha letta bene la sentenza perché in quella sentenza il capo di imputazione occupa ben tre pagine non una fitte di fatti seconda cosa che dice prima dell'82 non c'era l'associazione mafiosa e solo l'associazione delinquere semplice c'era prima e quindi non poteva esserci il concorso esterno in associazione semplice ma forse dimentica che la Cassazione ha già stabilito che esiste il concorso esterno anche in associazione semplice terzo dice il PG i giudici d'appello per Dell'Utri hanno metodicamente ignorato la sentenza delle sezioni unite su Mannino quella che diceva che ci vuole ma forse non l'ha letta bene quella sentenza dell'Utri perché la sentenza Mannino nella sentenza dell'Utri è citata sei volte per questo è stato criticato da noi del fatto quotidiano ma anche da Caselli ma anche da Ingroi da tutti i magistrati che avevano come maestro Falcone e Borsellino non perché ha chiesto di annullare la sentenza dell'Utri quello ci poteva stare se non lo convinceva ma perché ha detto quelle tre cose non vere immaginiamo che cosa gli sarebbe accaduto se avesse fatto tre errori del genere per chiedere di confermare la condanna di Dell'Utri l'avrebbero massacrato trascinato davanti al CSM impalato crocifisso in sala mensa come Fantozzi invece ha fatto quegli errori per chiedere di annullarla la condanna di Dell'Utri e allora tutti a fare applausi bene bravo Stampa e molti politici hanno detto la sentenza annullata vuol dire che Dell'Utri è innocente quindi ha sbagliato la procura quindi ha sbagliato il GIP che l'ha rinviato a giudizio quindi ha sbagliato il tribunale che l'ha condannato a nove anni quindi hanno sbagliato i giudici d'appello che l'hanno condannato a sette anni altre balle se squipedali perché la Cassazione non giudica le sentenze di primo grado né il lavoro della procura né il lavoro del GIP giudica soltanto la sentenza d'appello e infatti è quella che ha annullato ed è tra l'altro escluso che il procuratore Iacoviello e la Corte abbiano ritenuto dell'utri innocente altrimenti lo ricordava Ingroe avrebbero chiesto di annullarla per sempre la sentenza dell'utri non di disporre un nuovo appello se hai disposto un nuovo appello è perché pensi che ci siano degli elementi per assolvere ma anche per condannare eventualmente se no che lo fai a fare Iacoviello lo ha detto proprio chiaro nella requisitoria alla fine ha detto annullare con rinvio per vizio di motivazione non vuol dire che l'imputato è innocente vuol dire che la motivazione è viziata non che la decisione è sbagliata ecco ultimo punto cosa c'è scritto in quella diavolo di sentenza d'appello che è stata annullata perché mai Dell'Utri era stato condannato per concorso esterno a sette anni cosa aveva avuto in cambio dalla mafia a parte incontrare qualche mafioso essendo lui palermitano i giudici hanno scritto che Cosa Nostra ha garantito a Dell'Utri una sicura carriera nel gruppo Berlusconi perché i suoi rapporti con i mafiosi erano molto utili a Berlusconi che nei primi anni 70 aveva il terrore dei sequestri di persona che faceva la mafia di Luciano Liggio nella Lombardia dell'epoca e Dell'Utri con la scusa di far proteggere Berlusconi cosa ha fatto gli ha infilato in casa un boss mafioso travestito da stalliere Vittorio Mangano che non è che accudisse i cavalli accudiva proprio il cavaliere Mangano scrivono i giudici fu assunto ad Arcore dopo un incontro negli uffici di Berlusconi dove erano presenti Berlusconi e Dell'Utri da una parte e dall'altra parte i boss Bontade Teresi di Carlo e Cinà il gota di Cosa Nostra e magari e Mangano scusate rimase ad Arcore per due anni anche se ogni tanto lo arrestavano ogni tanto metteva una bomba e ogni tanto ospitava dei latitanti amici suoi a casa di Berlusconi insomma Dell'Utri consentì a Cosa Nostra scrivono i giudici di agganciare quello che era in quel momento un imprenditore milanese in rapida ascesa economica e avviare un rapporto parassitario che si è protratto per due decenni o quasi Berlusconi in quei due decenni pagò Cosa Nostra ingenti somme di denaro in cambio della protezione della sua persona dei suoi familiari poi dei magazzini standard bersagliati a Catania dagli attentati di Cosa Nostra e poi delle antenne delle sue televisioni in Sicilia così concludono i giudici d'appello Dell'Utri è stato fino almeno al 92 il mediatore lo specifico canale di collegamento tra Cosa Nostra e Berlusconi apportando un consapevole valido contributo al consolidamento e al rafforzamento del sodalizio mafioso altro che reato vago poi nel 93 quando ha fondato Forza Italia avrebbe potuto rendersi ancora più utile alla mafia non è che ha smesso come dice Sabina Guzzanti dice deve aver trovato una buona comunità di recupero no non ha smesso semplicemente non c'è la prova sufficiente per dire che abbia continuato a fare e a ricevere favori alla mafia anche dopo forse perché a quel punto non c'era più neanche bisogno di chiedergli quei favori Allora notizie da Giulia Sì Michele ti devo dire che su Twitter si è scatenata la polemica siamo i primi l'argomento più discusso servizio pubblico e sull'intervista c'è chi è a favore di ascoltare c'è chi invece dice che non dovrebbe parlare il figlio di un boss e quindi noi durante l'intervista abbiamo lanciato la nostra domanda chiedendo se a fronte dell'appello del figlio rispetto alle condizioni gravi di salute del padre se a Provenzano debbano essere riconosciuti i diritti dei normali detenuti e intanto però ti posso dare la risposta della domanda precedente cioè se lo Stato oggi ha tagliato tutti i ponti con la mafia è il risultato storico delle nostre domande ma hai raggiunto il 99% quindi la risposta è chiarissima va bene poi sentiamo anche l'altro intanto devo dire a Veltroni che Valtteri Molino mi fa notare che in quell'appunto che lei ha letto effettivamente c'è l'abolizione del 41 bis per decreto ma c'è anche sempre nell'appunto l'indicazione di trasformarlo in legge cioè questo per completezza cioè ricordiamolo non è così non è così ma vabbè facciamo finire di fare un'altra legge di fare un'altra legge che preveda la ripresa dei colloqui sono cose diverse comunque no no com'è 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 lei dica com'è io ho detto come ha detto lui l'idea di trasformarlo in altro strumento legislativo che prevedesse la ripresa dei colloqui e poi una serie di altri ma non il 41 bis quindi c'era sostanzialmente un'abolizione abolire il 41 bis no è precisissimo la sua proposta abolire quella proposta di Nicola Amato abolire il 41 bis e sostituirlo con una legge che stabilisce che chiunque sia detenuto per reati di mafia verrà detenuto in 121 carceri speciali e lui aveva calcolato più di 5.000 detenuti per mafia ora equiparare Riina Provenzano Vernengo i boss i capi della mafia magari anche al piccolo spacciatore era lì l'errore era lì l'errore allora signora Valeria intanto cominciamo a spiegare una cosa che insomma non è che noi parliamo di un qualche cosa che è distante chissà quanti anni da noi noi parliamo di una realtà la mafia che è operante diciamo nella vita nostra di tutti i giorni e così e nella sua vita in particolare la fa ancora sentire la sua presenza e in particolare una famiglia che è quella dei dei Madonia in che modo? la famiglia dei Madonia esattamente il clan di San Lorenzo uno dei clan noti anche perché appunto conosciamo bene Salvino Madonia colui che appunto è stato il mandante dell'omicidio di Libero Grassi e la famiglia Madonia purtroppo ha parzialmente distrutto la mia vita ho cercato di distruggere la mia vita io gestivo una palestra a San Lorenzo e per un paio d'anni hanno cercato di chiedermi il piso assolutamente e ovviamente è stato difficile e duro potermi opporre a questa situazione perché comunque sono delle situazioni pericolose io oltre prima di essere un'imprenditrice sono una mamma di tre figli ho cercato di oppormi poi non facendo non riuscendo più oppormi a questa situazione ho cercato di vendere la mia attività pensando di riuscire così a liberarmi da questa violenza che più che altro temevo per i miei figli ero riuscita a vendere la mia attività ma in realtà non era finito niente perché avendo venduto la palestra continuarono a farmi pressioni pressioni in che modo? venendomi a cercare e pretendendo che non soltanto mi diedero delle condizioni terribili o che io continuavo a pagare vita natural durante l'attività la del pizzo perché comunque finché in quell'immobile ci fosse stata una palestra io vita natural durante dovevo corrispondere il pizzo la seconda alternativa è dargliela loro è darla loro ovviamente la seconda ma questa è meno grave di quello che insomma era stata poi la terza proposta o che io dovevo andare dal nuovo acquirente a incassare per conto loro il pizzo e portarlo a loro o la terza ipotesi che potevo anche uscire da tutta questa situazione stare a guardare se questa persona avesse mai continuato a lavorare all'interno della palestra è inutile dire che ovviamente non ho potuto e non ho voluto accettare alcuna delle tre proposte perché mi hanno fatto minacce minacce violente mi hanno incendiato un'auto davanti alla mia attività mi hanno disegnato tre crocinere nella mia palestra hanno è vero che mentre stava parlando con una giornalista o un giornalista di oggi l'ultima è stata proprio l'ultima minaccia è stata due settimane fa perché la palestra attualmente è chiusa meno male nella sventura c'era questa giornalista col fotografo della rivista oggi appena ho aperto la palestra proprio perché dovevo rilasciare questa intervista è entrata una persona assolutamente disinvolta guardandomi in faccia e con aria arrogante con atteggiamento mafioso perché poi l'atteggiamento lo si riconosce perfettamente il linguaggio è quello e lo sguardo è quello e con aria mafiosa mi ha chiesto se stavo riaprendo la palestra e con tono mafioso e quasi di minaccia me l'ha ripetuto per tre volte davanti alla giornalista assolutamente sì davanti alla giornalista davanti al fotografo tant'è vero che poi c'erano anche i miei figli uno dei carabinieri che mi tutelava li ha accompagnato i bambini lontano c'era pure i carabinieri c'era la tutela ma è stata una cosa raccapricciante ma non è la prima volta che mi avvicinano con questo atteggiamento che alla fine non si può fare niente perché è un atteggiamento sono quelle parole è un messaggio cifrato quasi è un messaggio cifrato ma che in realtà che però arriva perfettamente arriva perfettamente però poi alla fine non consente di poter fare niente perché è una semplice domanda ma lei sta riaprendo la palestra e questa cosa che le capita a lei è ancora diffusa oppure lei sente di essere così un'eccezione una persona che è capitata magari in un luogo perché per quella famiglia è particolarmente interessante o ancora oggi questa realtà è molto diffusa nella società nella quale viviamo ma io credo che questa realtà comunque sia diffusa solo che oggi gli imprenditori grazie al cielo che vogliamo vogliamo combatterla siamo di più rispetto a prima io per prima malgrado le minacce e malgrado tutto quello che sto vivendo quotidianamente non se ne va resiste non me ne vado e voglio resistere però voglio resistere perché è maggior ragione perché è morto per noi vale la pena continuare a combattere cosa dice di quello che ha sentito prima qual è la sua valutazione sentivo che aveva voglia di dire la sua e non voglio tutto quello che ho sentito stasera forse mi comincio a dare delle risposte di quello che io vivo ogni giorno del perché lo Stato non c'è del perché certe cose che io vivo che non mi spiego e non riesco a capirle perché quando delle istituzioni delle figure politiche è uno Stato che pensi ci sia che pensi sia la tua ancora di salvezza che parla tanto di legalità che parla tanto di antimafia poi chi fa antimafia chi prende una posizione seria e determinata in realtà è evidente che viene parzialmente isolato e a quel punto non si capisce come mai io ho dovuto lottare per avere una vigilanza dopo le mie denunce se ci fosse un equilibrio oltre il quale non si può andare esatto in realtà si può combattere fino a un certo punto la mia palestra attualmente è chiusa da un mese non perché io ho deciso di chiuderla o perché io avevo deciso di cambiare lavoro ma perché l'appartamento sovrastante al mio locale era la casa di Mariangela Madonia è un locale confiscato per cui appartiene allo Stato ci sono delle infiltrazioni di acqua ho scritto infinite lettere alle figure addette per cui che dovevano intervenire secondo me non soltanto nessuno interviene a fare ripristinare questa infiltrazione di acqua ma la cosa più grave è che ovviamente i vigili del fuoco hanno chiuso la mia attività perché l'acqua penetra nella mia palestra e quindi oggi la mia palestra è inagibile per cui io mi chiedo lo Stato a chi ha tutelato a me o alla mafia cosa dice cosa dice ingroia della intervista di Provenzano sentiamo se vuole dire qualcosa ma l'intervista di Provenzano si possono dire ma innanzitutto prima cosa bene chiarire che che certamente tutto si può dire tranne che lo Stato non stia rispettando i diritti umani nei confronti anche dei peggiori assassini a cominciare da Bernardo Provenzano credo che il trattamento penitenziario assicurato in Italia sia da un certo punto vista al top nel panorama internazionale quindi mi sembrano del tutto così insomma stravaganti se non peggio queste accuse del figlio di Provenzano ci sono state delle accurate perizie l'esito delle perizie sono note la legge prevede che lo Stato di Salute può incidere in caso di provata incompatibilità con la detenzione carceraria e certamente non sussiste o di incapacità delle condizioni psichiche quindi lo Stato di intendere di volere così debilitato non poter eseguire il processo e le indagini in cui è imputato e indagato e non mi pare neanche sia il caso quindi mi pare del tutto fuori luogo questa uscita dopodiché mi pare ulteriore considerazione come sia difficile credo che che abbiate fatto bene comunque a mettere una telecamera davanti al figlio di Provenzano a farlo parlare ma nel parlare è venuto fuori tutto il linguaggio e la cultura inevitabile diciamo così di famiglia la frase violenza chiama violenza è una frase diciamo del tutto dentro la cultura mafiosa addirittura potrebbe suonare minacciosa se forse diciamo asseguibile un ruolo che non diciamo che all'indagine è questa che l'ha colpito anche Veltroni la stessa frase la stessa frase la stessa frase di parlare della mafia e di dare un giudizio sulla mafia lui risponde io sono contro la violenza la mafia non è solo violenza la mafia è quello che la signora ha raccontato e attenzione Michele perché non è più solo il problema della Sicilia quello che è successo alla signora sta succedendo in questo momento in Piemonte in Lombardia in Liguria in Veneto nel Lazio in una situazione di recessione economica la mafia è l'unica che ha i soldi liquidi e siccome le imprese fanno fatica ad andare in banca ci pensa la mafia solo che poi la mafia chiede quello che sappiamo chiedere e quindi ha i soldi per il traffico della droga e per il racket e poi li investe sulle aziende e sugli appalti oggi la questione della mafia è diventata la principale questione del paese se si portano via 130 miliardi di euro altro che le manovre delle quali stiamo parlando se rientrasse quel volume di risorse noi staremo a posto aggiungo una cosa la devo a Salvatore Borsellino perché ha detto una cosa che ovviamente non poteva non colpirmi io le posso dire questo le faccio una premessa per me chiunque abbia un atteggiamento di non dico di complicità ma anche di sottovalutazione del fenomeno mafioso va combattuto sia di sinistra o sia di destra chi ha un atteggiamento di questo genere per me non è né di sinistra e di destra è fuori da quello che io ritengo io le posso dire la mia esperienza personale sono stato al governo due anni ministro dell'interno napolitano presidente del consiglio Prodi ministro della giustizia Flick io ho avuto in quei due anni l'impressione che si facesse sul serio e le aggiungo una cosa nella campagna elettorale nella quale io fui candidato al presidente del consiglio diciamo Berlusconi sosteneva che Mangano era un eroe io dicevo alla mafia di non darci i voti e nell'intercettazione di Miciche che è uno che torna nella vicenda dell'Utri si dice questi riferito a noi a me in particolare fanno sul serio ci hanno rifiutato eccetera quindi sui singoli provvedimenti lei ha citato si può fare delle discussioni però le posso dire che questa è la mia esperienza con la premessa che ho fatto prima la legalità viene prima di destra e sinistra non è che qualcuno perché è di destra o perché è di sinistra può ritenere di poter avere una soglia di attenzione della legalità minore di quanto si debba avere ultimissima cosa nell'intervista di Provenzano che giornalisticamente è qualcosa di molto importante e capendo che è un figlio che parla del padre e essendo chiaro che qualsiasi persona malata va curata quale che sia la sua condizione la sua responsabilità però io quello che ho sentito è quello che diceva Ingroia adesso un filo di continuità molto registrabile e quella frase è una frase che detta in questo momento detta in questo contesto cancella tutto il resto perché fa capire che tutta la parte che riguarda la condizione di salute del padre è in qualche misura coerente con quella frase e questo è assolutamente inaccettabile comunque noi lo Stato sempre soffra diciamo quindi qualunque sia qualunque sia sì prego prego devo fare una domanda Veltroni ma lei non ritiene visto che ha detto che oggi quello che succede in Sicilia in effetti oggi succede in Liguria succede in Piemonte succede in Lombardia non ritiene che questo sia dovuto proprio a una mancata volontà dello Stato di combattere la criminalità organizzata quello che è successo è questo o anche la diretta conseguenza del fatto che lo Stato piuttosto che combattere la mafia accetta sceglie di venire a patti con questo questa è la logica conseguenza e visto che lei è stata al governo per due anni e dello Stato ha fatto parte anche lei e anche ai vertici dello Stato le posso dare assolutamente ragione io credo esattamente a questo credo che il fatto che complessivamente istituzioni e sistema politico non abbiano fatto quello che devono fare anche nel respingere la pressione che persone che sono dotate o di risorse economiche o di voti perché provenienti dai poteri criminali e affluiscono nei partiti portando questa dote non vengano respinti questo sicuramente va nella direzione di consentire alla mafia di aprirsi degli spazi che prima probabilmente non aveva in tutto il paese e quindi questo vale per tutti ma guardi vale per le persone che credono nel valore della legalità che possono essere io ritengo diciamo prevalentemente collocate in un lato ma non solo sono collocate in un lato le persone che credono alla legalità credono in un valore che viene prima delle opinioni politiche devo far esprimere anche a Martelli la sua opinione però gli voglio fare quella che voglio fare una domanda politica che mi interessa sì 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 arrivo anche da ingroia però siccome Beltroni ha fatto una citazione credo che Dragoni forse si inserisce bene no? perché vorrei dare una piccola notizia a proposito di comportamenti coerenti dello Stato dei governi eccetera che riguarda i capitali i capitali esportati illegalmente scudati lo scudo fiscale di Tremonti l'ultimo perché ne ha fatti tre nel 2010 ha avuto un appendice quando per riequilibrare gli interventi sulle pensioni e sul fisco il governo Monti ha deciso di mettere una tassa una piccola tassa addizionale l'1% doveva essere pagato per il 2011 e una tassa ulteriore gli anni successivi per mantenere l'anonimato questa tassa Michele si doveva pagare il 16 di febbraio il tempo è scaduto e cosa è successo? è successo che nessuno l'ha pagata ah sì? no il fisco non ha incassato un euro ma guarda un po' perché le banche che poi il governo Monti diciamo ascolta con attenzione hanno detto che c'è una oggettiva difficoltà operativa questa è la frase ufficiale posso immaginare noi vorremmo pagare ma non ci riusciamo hanno detto le banche le fiduciarie anche le banche svizzere sono state ascoltate diciamo hanno parlato ai giornali ci sono ostacoli e resistenze ad esempio ci dicono queste banche le difficoltà maggiori si incontrano andando a tassare chi ha utilizzato questi fondi perché i capitali erano all'estero ma li potevano muovere liberamente per comprare una casa per investire nell'azienda o chi ha avuto un'eredità si va indietro anche fino a 11 anni le banche dicono gli archivi cartacee non riusciamo a trovare le tracce c'è anche la paura di perdere la segretezza su questi conti perché questa tassa si paga pur di mantenere l'anonimato e questo lo fa notare una banca svizzera dove in svizzera ci sono 100 forse anche 150 miliardi di euro nascosti che cercano l'anonimato di chi sono allora questi soldi una parte è sicuramente il frutto di attività criminose infatti l'Ocse un'organizzazione indipendente stima che dei fondi che sono nei paradisi fiscali di tutto il mondo e sono circa 7 mila miliardi di dollari il 23% quindi quasi un quarto ha una provenienza illecita in svizzera ci sono 1650 miliardi depositati quindi quasi 400 miliardi secondo questa media sarebbero di provenienza illecita il governo quindi cosa ha fatto ha tenuto conto delle osservazioni delle banche e per pagare la tassa ha dato altri tre mesi di tempo scadono il 16 maggio però ancora adesso si vengono fatte notare delle difficoltà il governo si aspettava di incassare quest'anno 2 miliardi di euro da questa mini tassa però dicono alcune fonti di queste banche probabilmente questa cifra non sarà mai incassata quindi niente paccata una buona notizia una buona notizia tu c'hai invece qualche risultato per bene il 92% dei nostri su facebook Provenzano non deve godere dei diritti dei normali detenuti e Marco Maggi su twitter ringrazia proprio Provenzano e dice ogni volta tu e tuo figlio mi ricordate che Falcone e Borsellino sono ancora vivi e mi ricordate in cosa credo cosa dice Martelli no voglio dire questo io per conto mio farei un bel relè lo metterei a disposizione la famiglia cioè direi questa è la situazione clinica di Provenzano questa è la cartella leggetela e quindi da questo punto di vista bisogna essere assolutamente rassicuranti perché non è che dobbiamo introdurre nessun elemento che è contrario sia alla nostra costituzione sia all'istituzione carceraria con nessuno questa è la situazione la situazione di una persona che è perfettamente in grado di intendere di volere e questo è il suo quadro clinico generale questo è quello che farei io come stato cosa dice invece Martelli anche nell'analisi non è invece sono d'accordo con questa cosa che hai appena detto a me ha colpito l'ho detto subito sentendolo non solo la minaccia che era esplicita quella ma un aspetto che era invece forse sfuggito quando lui il figlio di Provenzano dice io sono contro la violenza io rispetto le istituzioni e ci vuole rispetto cioè è come se lui si fosse posto sopra la mafia e sopra lo Stato e secondo me questo è il nuovo volto della mafia la cosa è molto sofisticata al di là della caduta sulla violenza che tradisce l'intimidazione e ci riporta indietro all'idea della trattativa perché che cos'è che in qualche modo si propone noi non useremo la violenza se voi non usate la violenza se non infierite su un povero malato sembrerebbe questo il messaggio ma c'è la posizione che lui assume è sopra le parti le istituzioni e noi e io sono una cosa diversa più che noi l'istituzione è mio padre e io sono neutro e io sono sopra bisogna essere corretti no no di fatto le istituzioni è mio padre e io in mezzo sono neutro sono come la Svizzera lui è sopra non è in mezzo neutro lui è sopra si mette in una posizione superiore contro tutte le forme di violenza a me mi ritorna nell'orecchio sono cose imparatice queste qua né con lo Stato né con la mafia questa è la posizione comunque è interessante perché su Sky lunedì andrà in onda tutta la sua intervista quindi questa cosa potrà continuare ognuno potrà di riciclarsi possibile Sky cielo scusate ho sbagliato perché qui insomma questa multipiattaforma è un casino bisogna ricordarsi tutte le cose diverse allora Ingroia vuole parlare e mi pare giusto e tutti vogliamo ascoltarlo sia ben chiaro però io devo dare loro mi dicono devo dare un altro blocco pubblicitario però farei anche una cosa siccome abbiamo un'altra bella intervistona controversa ma questa volta molto pimpante perché Ruotolo si è preso Ciancimino figlio e l'ha messo un po' diciamo eh l'ha messo un po' al torchio diciamo così e comunque anche lì non è facile capire non è facile cioè è facile capire che ha fatto delle robe veramente insopportabili questo è facilissimo capirlo è molto più difficile capire anche perché l'abbia fatto io devo dire la verità questo o è pazzo o qui c'è qualcosa insomma su questa storia queste ultime trovate c'è sempre una domanda su sti candelotti di dinamite sulla vicenda Ciancimino c'è sempre una domanda che in commissione io ho fatto agli inquirenti come mai la casa di Ciancimino in cui si svolgeva tutto questo ambaradan Ciancimino era un signore abbastanza conosciuto come mai non c'era un controllo come mai non c'era una micro spia che sentisse che cosa questi si dicevano no non c'era dice c'era lui io non lo so perché potevano dire le camera davanti e allora dovrebbero essere dati ai magistrati i documenti di quelle se c'erano come tu dici evidentemente aveva degli altri modi no ce l'ha il fatto quotidiano ma le pubblicherà le puntate nei prossimi vent'anni l'importante è che li date ai magistrati poi pubblicate non no se le pubbliche a cose se le desse anche ai magistrati aveva altri metodi di comunicazione mettendo le micro spie si sarebbero potuti sentire cose pericolose anche per pezzi dello Stato ma scusate appunto ma adesso lui ci racconta questa storia dei candelotti noi vogliamo andare a Vito Ciancimini quando le tecnologie erano ancora un po' diciamo rudimentali eccetera ma adesso siamo a tecnologie raffinatissime per poter controllare le cose ma vi rendete conto che che questo ha preso tutti questi candelotti di amite li ha portati da Bologna a Palermo poi le ha date una parte a un amico un amico le ha buttati o forse a Mario non si sa dove e compagno a bene tutto questo è avvenuto così mentre noi cioè è una roba anche questa che grida un po' di scorta armata no lui dice che le ha portati senza scorta le ha portati da solo però io dico tutto sto movimento a parte che io come lo conosco lui che mi sembra una persona tra l'altro molto intelligente molto intelligente è giusto dire eh? è giusto dire che questa che questa però è la versione di Massimo Ciancimini eh? non è accertato che il percorso dell'esplosivo sia stato questo no ma i candelotti c'erano però sì ma che li abbia portati lui sì ma non è perché siano arrivati da Bologna e siano stati trasportati con l'auto da lui con la scorta al seguito è la versione diciamo così unilaterale di Massimo Ciancimino no no ma pure io penso che sia che sia una roba che non sta che non sta in piedi diciamo come racconto non sta manco tanto in piedi che uno come Ciancimino come lo conosco io che insomma è una persona vivace è una persona però non lo vedo uno abituato a maneggiare cose di questo tipo dice vabbè ma erano inoffensivi ok a me mi dai insomma un pezzo di candelotti ci sono inoffensivi perché non sono armati candelotti di dinamite non so voi non è tanto facile portarseli appresso metterli in giardino insomma è una roba abbastanza complicata comunque subito dopo la pubblicità lo sentiamo così vedete questo racconto che lui fa e io devo dire ci troviamo sempre di più di fronte a una vicenda che è enigmatica insomma da un certo punto di vista forse Ingroia invece già ha capito tutto e noi siamo fiduciosi in lui subito dopo la pubblicità lei il 21 aprile viene arrestato dalla procura di Palermo perché scoprono che nel bigliettino di suo padre Don Vito Ciancimino il nome di Gianni De Gennaro era stato aggiunto una manina aveva scritto quel biglietto era stato consegnato insieme a altri 253 documenti per cui ho capito ma i magistrati sospettano che sia stato lei Massimo Ciancimino a fabbricare e a mettere sul foglietto il nome di Gianni De Gennaro lei il 15 giugno del 2010 invece aveva detto che il nome del prefetto De Gennaro era stato aggiunto davanti a me da mio padre ma non c'è da trascurare un dato essenziale i giudizi espressi da De Gennaro di mio padre non erano racchiusi soltanto in quel pezzo di carta premettiamo una cosa ma perché è stato aggiunto quel nome? e questo sinceramente non lo so credo che non sia opera mia anche perché io stesso ho consegnato ai magistrati l'altro documento da cui è stato prelevato il nome credo che questo giustamente come molti tendono a chiamarlo sarebbe stato un suicidio come test ovviamente non c'è nessuna volontà nel suicidarmi scusi la documentazione la teneva lei non è che girava la documentazione io lo acquisivo anche da miei parenti da altri soggetti che gestivano e che non volevano essere compromessi ma chi erano queste persone? era un personaggio legato a mio padre che aveva una copia del libro dove aveva pure questa documentazione il sospetto è che lei sia manovrato? ma guardi credo che per trovarmi dove mi trovo dovrei avere un pessimo manovratore ho patito quelle che sono i dieci mesi di carcerazione preventiva e poi da fine dicembre ora ha l'obbligo di stare a Palermo e si può muovere soltanto su precise indicazioni e su attualizzazioni dell'autorità competente ecco detenzioni di esplosivi un uomo sottoposto a tutela come ero io credo che non sia normale che riceva un pacco con 30 candelotti di dinamite nella propria abitazione di Bologna però lei sta esplosivo prima dice di averlo ricevuto a Palermo poi si scopre e lo dice che l'ha ricevuto a Bologna sempre io non si scopre il problema è uno io non dice mai una volta cambia sempre ho detto che l'ha ricevuto a Palermo sempre un semplice motivo perché non volevo coinvolgere e compromettere mio suocero che in quel determinato momento stava che vive a Bologna che vive a Bologna io mi trovavo ospite a casa di mio suocero e mio suocero in quel momento stava attraversando una difficile stava combattendo una battaglia contro una brutta malattia non era la mia prima minaccia avevo ricevuto era stata trovata una pistola da pochi mesi nell'androne di casa mia avevo ricevuto diversi proiettili ma se era protetto che problema aveva? anch'io ero protetto ho ricevuto 30 candelotti di dinamite ho capito e poi che fa? li prende se li porta da Bologna gira in macchina e se li porta a Palermo io cerco di renderli inoffensivi e di fatti oggi una pezia tecnica presentata ai miei legali ha evidenziato come questo materiale se non manovrato è in perfetta conservazione da un tecnico del settore per cui assemblato da uno che aveva che ha nozioni per poter farlo non era per niente diciamo detonante non poteva esplodere e questa è stata la mia percezione non sarei stato così inconsciente da viaggiare perché non ho mai messo nessun pacco di dinamite come è stato scritto nei giornali nella nave o nella macchina nella scorta ho viaggiato io con quel pacco in macchina lei pensa che sarei stato così inconsciente se avevo la netta sensazione della precocità del pacco di viaggiarci o di cederla a un amico ne mancano 17 di candelotti sì perché cercavo di disfarmene questo sposa e che fine hanno fatto le ho dato a questo mio amico che dice di averli buttati in un cassonetto a mare ora non so la versione che ha dato perché giustamente si è impaurito senta secondo i magistrati sospettano che lei voglia coprire il vero nome del signor Franco perché il signor Franco esiste non è un'invenzione questo lo dicono i magistrati di Caltanissetta però a lei a Caltanissetta prima ha detto che il signor Franco era il prefetto Gianni De Gennaro no non è esattamente così così dicono i magistrati no così dicono i magistrati dicono che era l'uomo che manovrava il signor Franco io in una discussione che è avvenuta in un bar tra me e un agente e un efficiente capitano un solo colonnello ufficiale 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 della DIA funzionario della DIA ho fatto quelle che sono le considerazioni personali che mi erano state fatte da mio padre che potevano essere anche le mie lei sa benissimo che quelle che sono supposizioni e considerazioni non devono trovare spazio in quello che invece è la raccolta degli eventi probatori durante un interrogatorio la stessa è stata poi trasportata su un verbale e acquisita agli atti le pare mai possibile che Gianni De Gennaro l'amico di Falcone la cerrimo nemico dei Corleonesi poi si mette a manovrare nella cosiddetta trattativa questo sarà oggetto di quello che è il reato di calunnia per cui risponderò ai magistrati sicuramente da quello che è emerso oggi possiamo dire soltanto una cosa anche da quello che sto leggendo nei giornali che il dottor De Gennaro appare come un grande ingenuo perché qua c'è Parisi che sta della trattativa De Gennaro che sta della trattativa nel 93 e scrive alla procura levano un 41 bis sicuramente un po' ingenuo c'è lei è accusato anche di favoreggiamento personale proprio nei confronti del signor Franco è un personaggio reale che lei sta continuando a coprire se aveva una frequentazione con suo padre dai tempi dai tempi del ministro restivo cioè che siamo negli anni 70 le rispondo subito lei l'ha visto decine e decine di volte lei mi ha le rispondo subito lei ha detto che io posso essermi fatto un'idea del dottor De Gennaro non sono stato in grado di provare perché quelle creano sensazioni si metta nei panni nel momento in cui lei sa il nome di qualcuno e non sto dicendo se lo so non voglio dare sicurezza ho sempre detto che non morirò con segreti nella tomba perché credo che è giusto che sì ma lei sono messi a messi che dice che farà il nome del signor Franco il problema è quello fare un nome senza avere poi i riscontri o le prove per avallare questo io non sono spatuzza che ho ammazzato un giudice per cui la mia credibilità è disposta io sono un libero cittadino che gira ogni giorno e può subire minacce e ha cercato non di fare il collaboratore perché sono stato in maniera errata definito collaboratore io ribadisco sempre una cosa ho risposto solo alle domande dei magistrati perché non vuole fare il nome del signor Franco perché lo farò nel momento in cui avrò elementi per poter dimostrare perché non posso accusare una persona senza avere elementi due anni e otto mesi per il famoso riciclaggio intestazione fittizia di un bene adesso c'ha Palermo detenzione di esplosivi calunnia Caltanisetta calunnia favoreggiamento personale lei insomma se viene condannato i due anni e otto mesi si rischi il carcere ne sono consapevole torno in carcere perché lei poi nelle intercettazioni si vantava di essere l'icona dell'antimafia questo fa parte di un momento mio lavorativo dove mi sono recato a Verona per cambiare degli assegni da un personaggio che cambiava assegni e nel momento in cui lo stesso personaggio mi diceva ma come signor Ciancimino lei viene da me io in televisione la vedo anno zero lei è il tesoro lei ha centinaia di milioni di euro e viene a me a cambiare assegni da 25 mila euro perché ha bisogno di monetizzare e in quell'occasione io ho detto guardi lei si scordi quello che è il personaggio Ciancimino in televisione ma signor Ciancimino lavora non c'è nessun tesoro sto tesoro sta facendo una muffa ha bisogno di soldi tanta muffa che in un'intercettazione lei dice di avere 7 milioni di euro all'estero sì perché quello mi ha detto ma c'è sto tesoro e io gli dico sì c'è sto tesoro sta facendo una muffa all'estero sa che dicono di lei i magistrati Caltanissetta che il bilancio della sua pseudo collaborazione è più favorevole agli interessi di Cosa Nostra che non a quelli dello Stato non mi sembra di aver ricevuto questo tipo di notizia di reato queste valutazioni se poi non vengano accompagnate rimangono quelle che sono lei ha detto che voleva riscattare il buon nome e ci sto provando della sua famiglia però in realtà no ci sto provando lei stesso mi ha detto che rischio il carcere ritorno indietro se non avessi parlato cosa avrei di tutte queste ipotesi di reato se come dicono i miei fratelli che mi hanno accusato di essere pazzo mi ascolti un attimo i miei fratelli mi hanno accusato di essere pazzo e forse ha buona ragione facciamo un passo indietro se non avessi parlato di tutto quello che ho parlato quali sarebbero di questi reati che mi avrebbero contestati oggi sarei un libero cittadino con una condanna a due anni e otto mesi con nessuna pena da spiare con nessun problema mentre oggi come vivo con l'incubo del carcere perché? perché mi dica un solo di questi reati che li mi sta contestando che non è frutto di mie dichiarazioni oggi ho risvegliato queste memorie che è servito e a niente non scordiamoci una cosa Borsellino è morto nei 57 giorni non è morto il 19 luglio quello è stato solo la fine per cui o si fa luce su quei 57 giorni e io ho dato prova che ho cercato di fare non temo il carcere l'importante è che mio figlio saprà giudicare le mie scelte ma signor Ciancivino non ha paura del carcere se ho sbagliato pago Allora volevo dire in groia poi dopo non lo voglio far commentare Ciancivino perché quella sarebbe materia sua insomma lo commentiamo noi da quest'altra da quest'altra parte che naturalmente e io sono d'accordo con questa volta io non cinguetto molto con Twitter cioè lo fanno però si è scatenata l'idea di Dio perché lo sanno tutti che le condizioni carceri italiane non sono all'altezza della Costituzione ma adesso a parte la questione Provenzano ma noi abbiamo una situazione carceraria che veramente ha i limiti no voglio dire oltre i limiti della sopportabilità questo per diciamo universale esatto cioè io penso che lei invece si riferisse si riferisse alla come dire alla carcerazione di Provenzano di quelli come Provenzano quella era la sua dichiarazione è così ho capito bene oppure puoi chiarire che proprio per questo paradossalmente anzi si si ha capito benissimo anzi paradossalmente potremmo dire che riceveva un trattamento privilegiato rispetto a tutti gli altri detenuti comuni che spesso in una situazione come è noto di carceri che stanno scoppiando quelli si in condizioni inumane e disumane non è il caso di Bernardo Provenzano certamente la mia ultima domanda a lei la mia ultima domanda a lei è questa allora c'è un insomma in questo momento sappiamo quali sono anche le dichiarazioni sempre di Caltanissetta su Ciancimino cioè dice Spaduzza è altamente attendibile Ciancimino ha dato un contributo ad avviare questo discorso sulla trattativa ma poi non è attendibile per le sue dichiarazioni anche queste ultime cose lo dimostrano e abbiamo già detto all'inizio anche di una diversa interpretazione che il procuratore Lari dà di questo tipo di indagini che si devono fare per mettere a punto diciamo gli elementi di verità che stanno emergendo però io le volevo chiedere questo non è che in questo momento cioè non è che prima quando Berlusconi era diciamo nella sua fase dominante forte no e a un certo punto la magistratura riusciva a essere più coesa in una attività di controllo adesso che Berlusconi si è indebolito stanno venendo fuori tutte le contraddizioni presenti all'interno della magistratura insomma è un po' una notte dei lunghi coltelli dei magistrati quella che stiamo vivendo capisco è una domanda un po' come dire cattiva però secondo me è molto aderente la volevo fare prima a Martelli no io non credo dica lei che cosa voglio non credo che sia così e diciamo meglio voglio sperare proprio che non sia così altrimenti ci sarebbe da essere molto preoccupati diciamo per lo Stato della giustizia in Italia può incidere questo sulle posizioni tra virgolette politiche della magistratura associata dell'associazione magistratica c'è una maggiore dialettica interna rispetto alle modalità rispetto alle quali porsi rispetto al potere politico però non certo nel momento in cui si va nelle aule di giustizia si devono valutare prove e si devono decidere processi io semmai volevo aggiungere un altro paio di considerazioni se lei mi consente diciamo in chiusura un po' in coda in coda le cose che si sono dette finora intervista del figlio di Provenzano senza voler enfatizzare il significato di questa intervista certo però colpisce che si torni da parte di un familiare di un boss mafioso nel denunciare il presunto trattamento inumano e questo accadde proprio nel 93 in piena in piena trattativa con una lettera di familiare che venne mandato allora al capo dello stato nel quale si lamentava il trattamento disumano in cui erano trattati i loro parenti per effetto del 41 bis qualche mese dopo vi fu quelle mancate prologhe del 41 bis e vi fu quell'allentamento non posso parlare ovviamente di indagini di cui mi sto occupando perché anche questa è materia dell'indagine sull'attrettativa di cui si occupa la procura di Palermo però mi pare un parallelismo sul quale ragionare seconda cosa senza entrare diciamo perché avete parlato a lungo e molto con ottima conoscenza anche degli sviluppi dell'indagine di cui mi occupo e di cui ovviamente non posso parlare però nella ricostruzione che ha fatto Veltroni prima e Martelli poi ho percepito e condivido molto un tema ed è il tema della voglia di tregua cioè il tema al di là della contingenza diciamo delle investigazioni delle risultanze poi si vedrà delle indagini di trattativa io credo che questa vicenda abbia evidenziato in modo drammatico come che è sempre possiamo dire facendo senza forzature storiche che il confronto fra Stato e mafia è sempre stato rappresentato più di una gran voglia di tregua che dalla voglia di farsi la guerra da una parte e dall'altra diceva nel modo rozzo in cui usava fare dottorrina per spiegare i suoi la stagione streggista si fa la guerra per poi fare la pace la trattativa era in qualche modo l'obiettivo ed è ben possibile senza diciamo forzature di visione unitaria è quello che diceva Martelli che poi strada facendo dove essendoci questo grande desiderio di trattare di chiudere la trattativa via via ostacoli grandi e grossi a quella trattativa vennero in modo diverso neutralizzate diciamo così ultima cosa e poi taccio e mi è parso di cogliere anche nella sua lettura di alcuni passaggi del provvedimento di Caltanissetta una diciamo interpretazione di un ruolo diverso da parte della magistratura attribuita alla procura di Caltanissetta rispetto alla procura di Palermo non mi propongo ovviamente come interpretatore autentico del lavoro altrui però va tenuto conto anche di un dato di fatto che le procure di Caltanissetta e le procure di Firenze ragionano su eventuali elementi di prova e di responsabilità per i reati per i quali loro procedono cioè concorso in strage e quindi occorrono elementi di prova di una robustezza diciamo così enorme per poter iscrivere il registro degli indagati e poi ancora di più andare a processo nei confronti di soggetti eventualmente esterni a Cosa Nostra la procura di Palermo procede per altre ipotesi reati associativi concorso esterno o altre ipotesi come quelle che sono oggetto dell'indagine trattativa e forse questo spiega perché tante tensioni si scarichino soprattutto sulla procura di Palermo che per l'ipotesi del reato per il quale procede evidentemente necessita di soglie probatorie un po' più basse di quelle necessarie la procura di Caltanese senza la procura di Firenze no naturalmente io non sposo proprio niente ovviamente faccio il mio mestiere cerco di mettere un po' di bacchetta per avere qualche cosa anche quello che ci ha detto adesso mi sembra molto buono no 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 va bene però mi dice solo una cosa ma proprio sintetica siccome ha detto che mai dire mai che lei farà politica mai dire mai che possiamo dire sa che i nostri 260.000 ce ne ha tanti che insomma sarebbero contenti se lei facesse politica cioè l'ha detto così tanto per dire oppure è una cosa che veramente frulla il cervello se succedesse un patatrack che vede non so compromesso il suo lavoro non è una allora non è una cosa che frulla il cervello in questo momento credo di avere cose cose più importanti della procura di Palermo di cui occuparmi senza volere in alcun modo diciamo diminuire quello che si può fare da politici tra virgolette credo però credo però che a nessun magistrato possa essere chiesta una dichiarazione alla quale si rinuncia per sempre a un proprio diritto costituzionale che è il diritto di elettorato passivo al cima del diritto dell'elettorato passivo quindi una posizione di principio che è un futuro una posizione di principio allora provare a contribuire in modo diverso io apprezzo molto tutto quello non esclude che in futuro posso provare tutto quello che ha detto io mi chiedo come lo dice due volte una settimana ragazzi e credo di non essere il solo che si chiede lo chiedo a Ingroia come potrei chiederlo ai carabinieri o ai poliziotti di Palermo ma in questo lavoro indispensabile di ricerca della verità del passato chi si occupa dei problemi della signora grazie chi si occupa dei problemi del pizzo oggi a Palermo su scala di massa chi se ne occupa per conto dello Stato chi lo fa grazie e se voi raccogliete le denunce della signora conosco il caso della signora conosco il e se ci sono funzionari di pubblica sicurezza se il questore non fa il suo dovere il magistrato che riceve la denuncia lo deve imporre il dovere al pubblico ufficiale o no? no 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 scusi Martelli si vuole dire che per occuparsi del problema che mi sono che ne parla la signora non sia io ho detto di non occuparsi anche di questo o no? bisogna occuparsi anche della violenza quotidiana che c'è ma ce l'abbiamo dati ci abbiamo dati i magistrati poliziotti i carabinieri i sottopagati quelli sotto eh sottopagati però ce l'abbiamo non è che vorrei poter rispondere visto che posso dare una risposta vorrei rispondere io sulla mia vicenda personale mi perdono la procura di Palermo e le forze dell'ordine di Palermo ma proprio i magistrati hanno fatto un lavoro per quanto riguarda la mia vita e quella dei miei figli eccellente talmente attento che a maggio la procura di Palermo ha fatto la richiesta per essere inserita immediatamente nel programma di protezione perché ero seriamente a rischio di vita io e i miei tre figli hanno sollecitato il ministero hanno sollecitato la commissione tanto è vero che per disposizione del procuratore Messineo sono stata portata a 27 maggio nel giro di due ore in località segreta ci hanno portati in una località protetta dove dovevamo stare solamente 15 giorni ancora in Sicilia per essere poi portati in Italia a destinazione poi da stabilire con la commissione nella località transitoria piuttosto che 15 giorni mi ci hanno lasciato tre mesi mi hanno lasciato tre mesi senza darmi alcuna notizia anzi il mio magistrato mi telefonava per sapere come stavo cosa avevo bisogno da parte della commissione ero completamente abbandonata quindi qual è la conclusione a cui arriva lei ad agosto sono ritornata a Palermo per motivi di salute la procura ha continuato a sollecitare la commissione sollevando il problema e l'imminente attuale pericolo di vita a 20 giorni fa ancora noi la procura e le forze dell'ordine aspettiamo una risposta dalla commissione io ancora non sono stata inserita nel programma di protezione la procura ha fatto la richiesta da un anno per cui torniamo sempre che c'è qualcosa in alto che non funziona perché io non capisco com'è possibile che una procura faccia una richiesta per essere inserita in un programma di protezione il ministero quindi gli organi che immediatamente devono provvedere a metterci a tutelare la mia famiglia i miei tre figli non soltanto non lo fa saggiamente immediatamente ma in più torniamo a quella mancanza di coesione che ci dovrebbe essere dove c'è un provvedimento immediato da parte della procura posso chiedere una cosa conclusiva a Veltroni credo che Ingroia abbia risposto anche la signora benissimo anche per conto della procura diciamo di Palermo quindi va bene tutto però volevo tornare alla storia di Ciancimino cioè la storia di Ciancimino a me colpisce un fatto mi colpisce questa cosa che io all'inizio ho cercato di sottolineare la vostra attenzione cioè il fatto che sostanzialmente sia dal versante Ciancimino ma intendendo per Ciancimino Ciancimino padre tutta la storia di Ciancimino padre sia le rivelazioni che stiamo sempre di più rincorrendo nell'attualità di oggi cioè noi vediamo come dire una convergenza di critica che viene da chi dice che lo Stato fa troppo poco ma nello stesso tempo anche da chi dice e che da una volta stava da parte diciamo dei goleonesi per essere più chiaro che lo Stato ha fatto troppo diciamo in quelle situazioni che attribuiamo interamente alla mafia per cui anche il contributo di Ciancimino un po' si legge così cioè si legge come che dice no guardate non era solo mafia c'era il signor Franco c'era lo Stato c'erano gli apparati separati il figlio di Provenzano non parla però lo fa capire diceva in fondo no perché ve la prendete solo con mio padre se quando andiamo a analizzare queste vicende stragiste scopriamo che c'è lo zampino dello Stato che non ha fatto il suo mestiere ma è andato a fare comunque con uomini suoi ha compartecipato alle stragi infatti cita Portella della Ginestra che è un'altra bella allusione esatto un'altra bella allusione allora quando lui ci invita a questo questa è la questione quando Ciancimino improvvisamente gli trovano questi candelotti e va a dire a un poliziotto diciamo di alto grado comunque a un investigatore di alto grado guarda che De Gennaro era lui che manovrava tutto quello cioè come dire che quasi quasi Falcone se l'è fatto da soli cioè diciamo a livello a questo livello perché sappiamo quali sono i rapporti tra De Gennaro e Falcone no Martelli lei lo sa molto meglio di me erano proprio rapporti fraterni erano diciamo come dire amicissimi da tutti i punti di vista quindi chiamare in ballo De Gennaro da questo punto di vista è una roba veramente che non guarda come dire è quasi una come dice lui è quasi un suicidio è un po' come la storia del candelotto cioè io mi suicido come testimone attendibile cioè perché la sparo talmente grossa e la dico in maniera così casuale cioè al bar ma come posso pensare che non venga riferita a questa cosa che sto dicendo ad un altro funzionario è chiaro che verrà riferita e come faccio a proteggere una puttanata come quella diciamo dei candelotti di dinamite è come se improvvisamente questo avesse voluto certificare la sua inattendibilità poi facciamo concludere a Borsellino che sta molto più di me a perderci la testa a scervellarsi su queste cose ma a me sembra a parte mi rivolgo a lei anche come un uomo di lettere ma insomma è una roba è un romanzo una spy story questa qui Ciancemino ne ha dette tantissime ne ha dette troppe e di questa intervista se posso essere sincero sono più interessanti le domande delle risposte perché ruotolo una dopo l'altro smonta diciamo il castello che Ciancemino ha costruito e è giusto questo richiamo che lei ha fatto in intervista di Provenzano perché nell'intervista di Provenzano c'è un po' il tentativo di dire ma la mafia non è il problema il problema è lo Stato che fa tutto cosa che può scattare anche dall'altra parte la verità è che c'è un rapporto molto complicato gli storici della mafia sanno che questo rapporto è un rapporto in cui diciamo si è stati sopra e si è stati sotto alternativamente stiamo entrando anzi siamo entrati nel 16 marzo anniversario e rapimento di Aldo Mor io mi sono sempre chiesto perché dei mafiosi vanno a sparare a Mino Pecorelli cosa gliene fregava la mafia di sparare a Mino Pecorelli Mino Pecorelli pochi giorni dopo tutte le storie che tutti quanti ci ricordiamo le carte eccetera il rapporto tra mafia e Stato adesso diciamo Stato ma quando diciamo Stato facciamo una generalizzazione perché lo Stato è Ingroia lo Stato è Nicola Calipari lo Stato è Gianni De Gennaro lo Stato sono tante persone che combattono per difendere le istituzioni della democrazia poi ci sono dei pezzi dello Stato che hanno lavorato molte volte nella storia italiana per far andare le cose in un certo senso noi stasera non ne abbiamo parlato perché non è un nome di cui si ricordi ma è il caso che è venuto recentemente fuori a Trapani di questo Gullotta che ha fatto 22 anni di carcere innocente perché come nel caso di Scarantino qualcuno ha costruito una falsa verità nel caso di Scarantino c'è gente che ha fatto il carcere innocente uguale esatto ma 22 anni di carcere per l'assassinio di due carabinieri due ragazzi di 18 anni che a Trapani avevano fermato un pulmino con delle armi e poi se vogliamo dirla tutta c'è una parte di questa storia che arriva fino a Peppino Impastato perché a Peppino Impastato come è raccontato il fratello trovano a casa una cartella nella quale si parla della vicenda di Trapani per la quale viene chiamata in ballo anche Gladio ma questa roba qui fa parte di un complesso rapporto tra fatti che accadono perché li fa la mafia fatti che accadono perché pezzi dello Stato chiedono alla mafia di farli fatti nei quali pezzi dello Stato intervengono dopo che le cose sono accadute per depistare la ricerca della verità è una materia molto complicata nella quale la mafia però non ha giocato sempre da ancella la mafia ha anche fatto gli equilibri politici di questo paese fornendosi anche da soggetto politico fornendosi come strumento e soggetto politico capace di incidere attraverso le armi ma anche attraverso quella forma non violenta di penetrazione nella vita dell'economia e della finanza di questo paese e delle istituzioni che è il problema con il quale abbiamo a che fare ancora oggi cosa dice Borsellino è uscito pazzo Massimo Ciancimino è un personaggio molto sicuramente molto controverso e io all'inizio della sua collaborazione lo voglio incontrare per questo venne accusato di aver fatto rivoltare mio fratello nella tomba anche se a mio fratello rivoltarsi nella tomba riesce difficile visto che ce l'hanno messo a pezzi nella bara e quindi bisogna vedere da quale parte si deve rivoltare l'ho voluto incontrare per guardarlo negli occhi perché volevo capire quale fossero le motivazioni che lo spingevano a parlare lui mi ha portato le sue motivazioni che poi sono note lui parla del figlio che non vuole che il suo figlio debba avergognarsi come lui del nome che porta e tutto il resto io però dopo che l'incontro che avrebbe con lui in effetti mi dissi che era inutile che io cercassi io di capire quello che le motivazioni che lo portano a parlare perché non devo essere io a capirlo devono essere i magistrati a capirlo i magistrati sono ben in grado di sapere distinguere il grano dall'olio e quindi riuscire a capire che cosa delle rivelazioni di Ciancimino sia riscontrabile che cosa sia riscontrabile perché è importante che quello che dici sia riscontrabile in qualche maniera questo l'hanno insegnato Paolo e Giovanni proprio nel trattamento dei collaboratori di giustizia io ritengo che in quello che dice Massimo Ciancimino ci siano sicuramente delle cose vere e delle cose invece che qualcuno gli mette in bocca sono convinto di questo però in ogni caso io avrei preferito di gran lunga perché gliele mettono in bocca gliele mettono in bocca secondo me per far sì di cercare di di togliere veridicità a quello che dice mettendogli in bocca anche delle cose false secondo me quella del nome di De Gennaro ha messo quel documento è una trappola che qualcuno gli ha ordito per screditare tutto quello che lui ha detto comunque in ogni caso avrei preferito qui stasera che ci fosse Ciancimino piuttosto che vedere Provenzano ho visto tutte e due però Ciancimino avrei preferito che fosse qui perché avrei voluto anche io fargli delle domande Ciancimino in ogni caso lo devo ringraziare per una cosa perché mi ha evitato di avere qui davanti come ho dietro un partigiano della Costituzione come io ritengo che tutti i magistrati dovrebbero essere non soltanto in gioia e che per questo non vengono deferiti al CSM per provvedimento disciplinare perché io ritengo che tutti dovrebbero essere partigiani della Costituzione e magistrati in particolare però il fatto che qui fosse stato invitato Ciancimino mi ha anche evitato di avere invece davanti a me un partigiano del manifesto di rinascita democratica come ritengo che sia Cicchitto preferisco avere dietro le spalle un partigiano della Costituzione e in ogni caso io Massimo Ciancimino devo ringraziarlo di una cosa perché io ritengo che se Massimo Ciancimino non avesse cominciato all'interno di tutto quello che ha detto parlato anche di trattativa e tirato fuori quello discorso della trattativa io ritengo che tutti quei personaggi delle istituzioni che oggi improvvisamente a vent'anni di distanza cominciano a ricordare cose che per cui hanno partecipato a una congiura del silenzio che è durata vent'anni questo silenzio lo avrebbero tenuto ancora per altri vent'anni quindi almeno Ciancimino Massimo Ciancimino ha avuto quel merito e poi a Ciancimino avrei voluto dire questo lui dice di conoscere l'identità del signor Carlo del signor Franco e di non volerla dire me l'ha detto anche oggi a telefono quando ho cercato di convincerlo a venire qui oggi mi ha detto che ha paura e che per questo non fa quel nome a Massimo Ciancimino gli avrei detto quel nome io temo che abbia molto paura ho detto quel nome io ho 70 anni mi posso permettere di non avere paura perché già ho vissuto la maggior parte della mia vita gli uomini della mia famiglia sono sempre morti a 52 anni mio padre a 52 anni mio zio a 52 anni mio fratello scherzavamo da ragazzi dicevamo moriremo a 52 anni a lui in qualche maniera ce l'hanno fatto riuscire io visto che mi posso permettere alla mia età di non avere paura della morte volevo dire a Massimo Ciancimino dillo a me quel nome poi ci penserò io a gridarlo dappertutto come ho fatto con altri nomi bene devo dire che su quello che dice Borsellino sul ruolo iniziale che ha avuto Ciancimino nello sviluppare il discorso della trattativa veramente non ci sono dubbi su questo possiamo essere tutti d'accordo siccome sono stati nominati partigiani noi ne abbiamo uno in servizio permanente effettivo che non ha mai smesso diciamo di combattere in montagna gli abbiamo spiegato che la resistenza era finita ma lui continua a pensare che la resistenza continua resistere 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 mentre arrivano la velocità con la quale arriva il nostro tra piccolo è proverbiale sta diventando ecco bravo l'ha visto mennea ti chiamiamo anche palestra guarda come è piazzato ecco benissimo io ti affido la creatura eccola qui la mettiamo bisogna fare un po' artigianalmente qua vabbè cominciamo andiamo cominciamo così trattativa tra Stato e mafia ce lo dicano anche di questi tempi in ogni trattativa l'accordo comporta sempre qualche sacrificio sì Falcone Borsellino però c'è anche chi lo negano che ci sia ancora con questa minchiata della trattativa tra mafia e Stato ma come ve lo devo dire Picciotti lo Stato non esiste comunista però ora parlando dello Stato ci sono anche dei pezzi dello Stato come diceva efficientissimi più efficienti dei commandos inglesi ostaggi blitz della cassazione liberato dell'utri grande e poi andando un po' al passato così è uscita sta notizia nel 2009 per ben due volte Berlusconi stava per sedersi a tavola con boss dell'andrangheta e perché non l'ha fatto erano buffè in piedi non l'avevano avuto e rimanendo in tema un senso più lato insomma ci saranno le elezioni amministrative no amministrative la notizia della settimana ma anche riconfermata la lega va da sola così non deve spartire le mazzette con nessuno però dico ora ci sono anche altri ambientacci eh Palazzo Chigi è un ambientaccio una paccata di miliardi e se non ci state attaccatevi a sto cazzo figli della migliore scusa la Fornero era una vera signora e dopo poco più di cento giorni là dentro già parla come un vecchio malavitoso ma era così figlio comunque non parla così la Fornero ma a casa i miliardi vedo la umbra un peter cazzo l'ho sentita io articolo 18 accordo vicino tant'è che sono uscite le istruzioni per la firma sì apporre nel punto indicato dalla freccia l'impronta del piede in forma chiaramente leggibile e qui ci sono però ci sono se ne andava l'articolo 18 ma insomma entrano i nuovi ammortizzatori sociali mille euro se perdiamo il lavoro e questa sarebbe una paccata di soldi sì perché ce li daranno tutti in biglietti da 5 e che fa il sindacato la CGL in questo casino è a favore della TAV naturalmente camusso per la TAV la Val di Susanna ora andiamo un po' sulla RAI che hanno detto come più nomina CDA RAI tutto come prima Corrado Gaspassera nuovo ministro però anche nella RAI ci sono delle persone che prendono posizioni fermissime special TG1 TG1 occhio all'occhiello Susanna Petruni con nastro giallo all'occhiello per il ritorno dei due marò Augusto Minzolini con carta di credito all'occhiello per il ritorno di se stessa ognuno ha auspica del ritorno è andata male per il momento poi insomma nel paese c'è un po' di casino quello è uscito un dato che i consumi degli italiani sono come 30 anni fa ma di quando è questo latte del 1982 ora aspetta non stilare io stasera ho detto madonna ma gli ho detto hanno liberato dell'Utri il topino è che deve stare sempre lì poveraccio ancora non ha voluto essere liberato allora c'è stato detto ecco qui il topino non vuole essere liberato per carità dite agli inglesi che non tentino il blitz e il topino sta sempre lì senti sta settimana fa dei seri qui i seri sì perché come ricordava Veltruni a mezzanotte è il 34esimo anno dal ravimento ma sai che questi hanno occupato hanno occupato piazza del Gesù esatto cioè il male è dentro piazza del Gesù può vedere le chiavi che è un momento scorso è sempre stato io pensavo di entrare a piazza del Gesù prima o poi ma sfondando la porta capite questa era la mia ambizione invece ho le chiavi eccole qua queste verdi vuole lavorare tutti i giorni a piazza del Gesù nell'ufficio che era l'appartamento di De Gasperi ma se un po' se De Gasperi avessi saputo che tu entravi nel suo ufficio se l'avessi saputo quelli dopo ancora peggio secondo me mi metteva una bomba con tutto il suo pacifismo noi abbiamo ricordato come il male 34 anni fa no? parlò del rapimento Moro questa fu un paginone del male che fece molto discutere l'abbiamo rimesso in copertina però c'è una novità c'è una novità Michele che è un grande scoop tu l'hai detto siamo a piazza del Gesù siccome siamo un po' coglioni anche se anzianotti ogni tanto si gioca a palloni nel corridoio vincino ha tirato una pallonata terribile ha sfondato il soffitto e dal soffitto è venuta giù una fiumana di corrispondenza lettere cartoline sms email tweet telefonini commesse tutto è tutta di Moro anticipata no non è anticipata perché lo scoop era questo è qui in copertina dentro riportiamo la corrispondenza Moro vivo sino al brizio inglese va bene allora vi ringraziamo per essere stati con noi mi sembra una puntata molto intensa se d'accordo anche il partigiano è d'accordo ci vediamo giovedì prossimo grazie